l'ultima tempo player visible ciao ciao, c'è questa cosa? come c'è ctrl d? ctrl e ctrl e, ecco ctrl d oh, vedo i pianeti eh? oddio io non vedo niente oddio eh no, farò io farò, non vi preoccupare ok potete esplorare comunque sicuro però se vi spostate vi poteste perdere capito? faccio le switch scena e vi spostate e vi vinculate tutto stiamo partendo da lontano insomma beh, quasi giusto eh sì, perché riguarda più luoghi diciamo ok siete pronti quindi? yes no come no 60 sta caricando sta caricando allora attendiamo il caricamento ma quelli sono nomi di pianeti di guerre stellari oddio non è vero alderanna vecchio non è vero non è vero non è vero tu menti poi pandora eh che vuoi da pandora? ah avatar è il borderlands eh 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 gli altri si abbranzano mai dove eravate finiti voi altri? oddio dove erano loro erano qua qua c'è c'è Berto ok siamo pronti e io sto guardando la grande mura per sé va bene io so che mi fermo allora possiamo iniziare veramente sì open music ecco muerto lei comunque io questo canale io non vedevo che eravate in questo canale qui abbiamo compreso il problema non ti preoccupare let's go è qui il fascio devo regolare il bar ah il loop il loop come si metteva? oh cazzo ah loop meno loop meno loop eh repeat repeat ah it's good to be back repeat ok è tempo di iniziare Non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo Darko, l'apprendista eonico, Ashira, il Dragonborn d'oro, membri del gruppo Foglio of the Dark Nation, la loro missione è fallita, ora separati e dispersi in punti diversi del cosmo, Eva, la viaggiatrice, Logan, dallo scudo risplendente, Lithium, la chizzune, Mixi, la combattente, Sionac, l'armonico, la canzone di Kates è stata recuperata ed il gruppo è ripartito per una nuova avventura Mixi, sei nel carretto insieme agli altri tuoi cinque compagni di viaggio, i cavalli stanno trainando il carro verso la prossima meta, sentite il rumore delle foglie, degli alberi che ci spostano con il vento, il sole è ancora in alto in questo caldo pomeriggio Ma qualcosa accade, qualcosa che disturberà questo tranquillo viaggio Mixi all'improvviso, inizi a sentirti male, un malore che non proviene dalla tua temporanea depressione ... ... ... Well fuck Oh no Le tue mani Mixi Inizieranno a brillare Di bianco E dalle tue dita Il bianco inizierà a espanderti Fino alla mano Per poi fermarsi al polso La maledizione dell'Oblivion Tenterà di corromperti sempre di più Più l'Emissario si avvicinerà Più la maledizione si espanderà In tutto il tuo corpo Maneggiare un cristallo dell'Oblivion È stato un rischio Un rischio Che non potevi permetterti di correre Questo rischio È peggio di quanto potevi immaginare Hai lo sguardo perso nelle tue mani ormai totalmente bianche Non sai che lo sta accadendo E ti domandi perché Perché proprio ora Guarderai i tuoi compagni In cerca di risposte Quando ti accorgerai Che anche i tuoi compagni Stanno guardando qualcosa Qualcosa In cielo E puoi notare terrore nei loro occhi One moment please Non muovete niente please Allora Allora Il tempo è giunto Per chi guarderà o stava guardando nel cielo Vedrete qualcosa di terribile senza precedenti Potete vedere l'emissario o la sua luce Che tenta di entrare nel cosmo Vedete il cosmo come tutti lo conoscono È protetto da un rivestimento astrale E l'emissario tenterà di trapassarlo per entrare L'ancella Nymtis Della nebula dove l'emissario sta cercando di fare brezza Tenterà di fermarlo L'ancella sta contrastando l'emissario con l'efficienza Ed il rivestimento sta stranamente facendo molta resistenza Che ha quasi fermato la velocissima carica dell'emissario Ma non basta L'emissario è troppo potente L'ancella è costritta a scappare per evitare di essere distrutta Potete vedere il brutale squarcio nel cielo di questo rivestimento Che viene strappato Potete sentire come se il mare astrale stia piangendo L'emissario è entrato Il bianco è entrato È senza rivestimento che vi proteggeva Ora la sua luce vi sta toccando a pieno potere L'oblivion guadagnerà 15 punti di entropia Ta Perfetto For calisse Eh sì L'emissario va avanti Non aspetta nessuno Bene Un attimo un mini pausa Aspetta un po' di roba Oh cazzo È un cazzo Sì sono cazzi Già Ok nel mentre è tipo chi C'ha il token in questa mappa È visibile Può rolarmi un perception Quale mappa? Questa di adesso Questa qua è spacemap Tutta? Tutta? Quindi tipo tutti tranne Tutti tranne Bell e Conradin Quindi non mi ricordo più un perception No Perception check Eh aspetta che non mi ricordo più dove sono i tasti Sei molto in alto Grilla Grilla Big roll Questa è un group roll comunque Nooo Ok Bene Ritorniamo zoomati su tutela Bene Perché le cose bad Non sono ancora finite Play music start Oh no Oh no Qualcos'altro di strano Sta per accadere Subito dopo essere entrato l'emissario Che non si era mai fermato prima di adesso Si fermerà Improvvisamente per qualche attimo Come se qualcosa O qualcuno lo avesse fermato Ma pochi istanti dopo Riprenderà la sua carica E nel mentre siete ancora nel carretto Ad osservare senza poter far nulla Il cielo Sopra la vostra testa Si spaccherà Come del vetro che si rompe Alla vostra sinistra E poi a destra Parti di realtà verranno frantumate Iva Guardi verso il basso E potrai vedere che anche il terreno sotto di voi Si è appena spaccato E stendendosi fino dentro il carretto Che si romperà in due parti I cavalli continueranno A trascinare la parte davanti Quando ci sarà un'ultima grande spaccatura Che colpirà tutti i presenti I cavalli Gli alberi Ogni cosa Si è fermata Come se si fosse bloccata Ed è questo punto Che perderete conoscenza Ariman ed Arco Anche voi avrete un'esperienza simile Ma a differenza degli altri Vi risveglierete Nello stesso luogo Come se non fosse Mai accaduto niente Ariman Subito dopo che ti risvegli Dalla terra degli inferi Uscirà una porta Che ti inviterà ad entrare Darko a te invece Poco dopo esserti risvegliato Il tuo corpo Inizierà a brillare Infuso da della magia arcana E sotto i tuoi piedi Comprerà un sigillo Che non hai mai visto Sai cosa sta accadendo Qualcosa Qualcuno Ti sta per sammunare In un luogo A te sconosciuto Chi mi chiama? Vuoi avere pausa Credo Per non farlo uscire E' solo l'apocalisse E' solo la morte Torniamo su Dutera O quello che resta Dutera Bene Ed arriviamo quindi I vostri personaggi Corvi, Nebel Che anche voi Svenirete improvvisamente Ma senza vedere Niente di strano A differenza degli altri Tipo realtà Che viene coltumato O altro Però se volete Potete dire Di aver visto La luce bianca nel cielo Prima di svenire A voi la scelta Ed è qui che Posso far vedere La mappa Dove vi risveglierete Tutti Si Si New map Loading A Control E Giusto? Si possono stare Tutti sulla mappa E contro La Strange ruins 58 Dai se la si fa Ale Bene Continuo a dire un po' Mentre caricate Con questa parte Si conclude La sessione 0 Quindi se volete Continuare E iniziare Appunto la sessione Inizierevo La campagna Viera e propria Ditemelo adesso Eh si C'è un qua C'è per me Va bene Ma aiuto Nice Nice Ah Sto morendo Scusami ma quindi solo io ho visto le mani che stavano svopolando Eh gli altri ne erano abbastanza tanti Gli altri erano Eh stavano guardando quella cosa bianca che era in cielo Che è andata bene Se l'hai notato prima le mani Ok Puoi intuire Puoi intuire che Il motivo per cui le tue mani si sono accese È come dire in In contrasto Come dire in Silviosi con il fatto che Correllato 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 ecco Ok Suppondo Ma le mie mani perché ho toccato il cristallo Le mani degli altri erano a posto Sì le mani degli altri erano a posto Cazzo Suppongo che se lo vedeva l'Ithium ti avrebbe tagliato la mano Le mani Eh poi se vorrai fare Cercati aggiuntivi riguardo il cristallo Eh Perché tipo ti ha Beccato Così così Ti ha Colpito Potrei farmeli Però comunque in questo One shot è irrilevante Può chiedere Può chiedere ad arco anche Potrei farlo tipo Se vuoi queste informazioni Potrei farlo O off Sessione O comunque tipo Magari durante un'altra sessione Con cui userai Un'altra campagna Con cui userai mixi Ok Bei momenti quelli D'acca Già La mano Io sono ancora 57 su 58 Pensa che spettacolo Durante un cos'era Un templario No cos'era Sì durante un fight Contro un inquisitore Un inquisitore Via la mano Non mi serve più La mano Si prende vita E cammina via Entrambe le mani Preferirei non perderle L'inquisitore Mi guarda stranito Già non ho un occhio Perdi pezzi Perdi pezzi Beh poi sicuramente Come dicevo prima Puoi sicuramente Dire Che Quello che ti è accaduto Alle mani È dovuto Soprattutto per il fatto Dell'emissario Che ha fatto breccia Eh si ho capito Però vediamo se Ha accentuato appunto Magari delle micro particelle Fugge così E appunto del cristallo Ok Che Se non fosse entrato Non sarebbe mai caduto Distrutte Minchia diablo Pensate se Se la sniffava Darko Quella La polverina Miffa la polvere di Oblivion È il cervello che si accende Ma è stato magnifico Il cervello galattico No no Sarebbe stato magnifico A scopo di fight Dai No mega Mixi Oblivion Oh no Oh il mio personaggio l'ha detto Alla polvere dell'Oblivion Alla acquetta Cosa c'entra l'acqua C'entra Sei molto bravo d'arco Sei molto bravo d'arco Ma le stesse cose a me Probabilmente avrebbero fatto Whipare il party Pronti Io ho caricato Gli altri Che sta ancora caricando Chi non è ancora finito Aspetti Poi scriva R Quando è pronto Eh lo devo già scrivere R Io Ma comunque FK Quindi Direi quelli FK Fase 6 R Tutti R Nice Nice Perfetto Perchè Ok Vi zoom Già non lo siete zoomati Qui dove vi risveglierete Insieme ad altre persone addormentate Che non si risvegliano Già Ehm Bene Il primo che si risveglierà Sì 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 Mi Sì Di provenienza magica Di provenienza magica Darkness magica Sembra che questo dungeon Ci ha messo davvero male Come se potrebbe Collassarvi la montagna sopra la testa Da un momento all'altro Quindi il mio drag vision non funziona? Corretto Ok Ha una particolarità Non è proprio un darkness Proprio come la spell darkness Ma è un darkness Che ha un qualcosa di magico dietro Comunque non vedo il mondo Il tuo dark vision Non ti fa vedere zero Ti fa vedere zero Ok Ok Allora Mentre ti risvegli Le mie mani non brillano vero? Un momento perché Mentre ti risvegli Devi rullarmi un Costituzion syndrome Ahia Ok Eh Come what? Nulla Accade Per un attimo Ti era parso Di non ricordarti Chi eri Ma poi Tutte le tue amore Sono tornate E ti ricordi Delle tue mani Eh come sono Che ora Sembrano spenti Non ne mettono lui Se non ti permettono di vedere Ok Le mani Le mani Ci sono ancora Eh Buio Ehi là Ehi Senti rimbombare La tua voce In questa grotta E non sai quanto sei grossa Non sai quanto è lunga E non sai Soprattutto dove Posso provare a sparare Un fireball a salve Per vedere se fa luce A salve Vai Così Dove colpissi? Dove vuoi colpire? È importante Verso l'alto Verso l'alto Ok ok Si tira giù l'alto Colpissi Colpissi il soffitto Ma lo vedo Quando mettere il fuoco acceso Colpissi il soffitto Il tuo fireball emette luce Colpendo il soffitto Le fiamme Cadono E anche quelle Emettono un po' di luce Fino a quando non si dissipano Ok Rolla New perception Check Ok Sta crollando il soffitto Danni strutturali Ok è sufficiente Non sai Se potrebbe Essere una buona idea Oppure no Però Quello che hai appena visto Era Delle fiamme Che hai visto la loro luce Anche se erano magiche Ti viene L'idea in mente Che potrebbe Una torcia funzionare Se la accendi Per fare luce Anche se questo darkness È un darkness magico Ok Beh penso che la cosa Che farebbe Mixi È di Fare magical tinkering Su una moneta Per fare un po' di luce Prima di accendere una torcia Che fa comunque 5 luci 5 feet Di Light E 5 feet Addizionali Di dim light Per me è una spell No Una cosa di magica No è un'abilità Dell'artificiere Quindi Magic Sì è una cosa magica No Sì è magia È magia Sì sì Non è una spell Accendi il coin O qualsiasi cosa Qualsiasi oggetto Infondi la magia Sì sì un copper Ma lentamente Si spegne Come se il darkness Assorbisse la magia Da questo Coin Perché non si spegnerà E Beh allora Aspetta che guardo l'inventario C'ho un Dungeoners pack Che dentro dovrebbe avere una torcia Quindi è subito Ok Torcia Hai una torcia Cosa fai L'accendo Ok rollami Un Un Slate of hand Per vedere Se al buio Riesci a maneggiare Queste cose Completamente al buio Riesci a maneggiare Quanto bene Riesci a maneggiare Ok Ce la fai Ravano Nella bocca al buio Per poco non ti credeva Al cosino Per accendere No La roba Stai per Perdere qualsiasi cosa Ok Però ce la fai E metti luce E vedi qualcuno Che è di fianco a te Che sta in questo punto Non c'è un sistema di No Non c'è Ok Diciamo che vedi adesso Non c'è Ma lo riconosco più o meno Non lo riconosci Chi sarà mai questa persona Un gigante Appena ti avvicini Mi sveglia Mi sveglia Mi sveglia Ti sveglia Ti sveglia Anche tu Nelle stesse condizioni Ma questa volta C'è la luce E davanti a te C'è un individuo Che non conosci Rollami un corteccio Su un siletro Oh fuck Non ti ricordi Che sei Non hai la minima idea Di che tu sia E perché tu sei qua Zero proprio Amnesia totale Bene Oddio è vivo Chi sono No Chi sei Ma ecco Questa è una domanda migliore Come Chi sono Io sono Mixi Mixi Si vuole intorno Sei Mixi Chi è Mixi Io sono una goblin E tu non sai chi sei Hai mente locale Dai su Piano piano che passa il tempo Frammenti di memoria Tornano nella tua Nella tua mente La prima cosa che ti ricordi Che la giustizia È la cosa più importante Ora Ora ricordo Justice E sorriderà Meglio di niente Posso passare una torcia Ma quella piccola Ti porterò io sicuro Piccola Guarda che ho quasi 20 anni Ormai non sono più tanto giovane Per gli standard dei goblin La guarda Capisco Nessun timore comunque A ogni problema c'è una soluzione Già Anche questo Gli allungo una torcia Accesa Tocco torcia con torcia Ce la prendi La prenderò Senti Sto cercando Sto cercando i miei amici Dovrebbero essere Ci sono due Kitsune Tu sei perduta Ho perduto i miei amici Non sono perduta io E poi scusa Fino a un minuto fa Non sapevi manco chi eri Ma non c'è nulla da temere Perché la giustizia È sempre con me Andiamo avanti Ma nel mentre parlate Ma nel mentre parlate Fermi Sto ancora parlando Qualcun altro Si risveglia là Ok Vai in alto Si Onak Ti risvegli Con questo buio Più totale Rollami un Quotisus on saving Tro Oh no È come se non fosse Caduto mai niente Cioè Ti risvegli Come ti risvegli Tipo Dal sonno Giono dopo Guarda di essere Mi ha addormentato qua Dove sono Avanti Senti delle voci Provenete dal basso Quattro Se riusciamo a vedere Sì guarda Guarda Vedi una luce Da questa parte Aspettami Oh Una Volpe Non so Salve uomo volpe Mixi Sì Sì Mi conoscete Che è questo individuo Non so Non sta bene Secondo me Non si ricordava chi era Adesso parla solamente Blattera di giustizia Io Sono giustizia Vedi Piacere Aspetta Adesso so il mio nome Eh Piano piano Continui a ricordarti Gli elementi Cioè Ruolo Atto di screzione Ok ok Io Sono Il simbolo Della giustizia E della pace Io non credo L'ambio Ma non ricordo Come mi chiamo Esatto Ma Dove siamo esattamente Eravamo su Carretto Io spero che Il carretto Ce lo Siamo sognato Dove essere Stato un incubo Di qualche Streno tipo Sai Io ho fatto Qualche discussione Con i tizi Del dream E di sicuro Si è Si è rotto qualcosa Proviamo gli altri Devono essere qui in giro Se ci sei anche tu Giusto Ti sono altri dispersi Rollami intanto Rollami intanto Un perception check E nel mentre Alcun altro Si sveglia Ok Sionac Mentre appunto Parlavi Con l'occhio Ti è creduto In questo punto qua Ti sembra Un mega diamante Voglio là giù In fondo Ma nel mentre Qualcun altro Si sveglia E' passata una torta Sione Uno per volta Perché Faccio rispondere Go back Un momento Ok Iva Rollami un cortisone Semi Mentre Ti rialzi Non ricordi Non ricordi bene Cosa è successo Non ricordi Tipo Quello che è accaduto Non ricordi La cosa Dell'oblivion Contro space Contro space Per parlare Per la bolla Non ricordi Né Della cosa dell'oblivion Né Della realtà Che si è frantumata Ti ricordi Il tuo nome E le cose Default In pratica Il tuo personaggio E' come E' come Corradin Lo ruolo A discrezione Il ritorno Della tua memoria Ma che cacchio Ci faccio qua Che posto è questo E' tutto buio Ce l'avevo Le torce C'è 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 Un pack Doris Ville In teoria Explorer's pack Allora le hai Vuoi provare A accendere Una torcia Si si torce Allora Roll mi Un State of hand Non è niente Non è niente Per te Al buio La luce È praticamente Uguale Appena accendi La luce Della torcia Potrai Notare Un cristallino Che emetterà Un po' Di riflesso Della tua luce Carino Questo Potrebbe Potrebbe avere Del valore Mi ricordo Dei miei compagni Sì ma non ti ricordi Bene Come detto A tua discrezione Puoi ruolarla Come ti pare Ho l'impressione Di dovermi Ricordare Di qualcosa Ma non ricordo Cosa Vai a gironzola Un po' Qua intorno Fammi un perception Check Si guarda intorno E niente Senti Una voce Provenire Da questa Da questa parte Ti sembra Che sentire Un suono Non una voce Non dovevo Essere Con qualcuno Non so se c'è Un qualcosa Di magic drain Visto che L'oggetto Mi si è spento Ma ricordati Che Mixi ha Un occhio Powerato Dalla magia Quindi non so Se influisce Sulla sua Vista Questo Darkness Che assorbe La magia In caso Dimmi Anche magie Vanno bene Di lore Una protesi magica Non so Poi Non è mai Stato Anche mai si vanno bene Anche mai si vanno bene Ok Va bene Siamo che È la magia Che mi è dissipata Ok Come è il tuo firebolt In pratica Sì 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 Possiamo muoversi? Eh sì Potete muori Mi ricordo Di un tizio basso Forse io Ha stato Preta giustizia Che hai visto Sianac Cosa diranno Andiamo a dare un'occhiata Lo lasciamo da solo È il buio Vieni anche tu Signor giustizia Non dovete trovare I vostri amici? Non c'è nessuno Abbiamo visto qualcosa Che brilla Forse è qualcuno Che chiama Cercaduto Potrebbero essere in pericolo Io non posso Sdoppiarmi Amici Eh va bene Compagni Non sta hollando Io vabbè No no Sta parlando molto piano Ma che è? Adesso È un ultimo Si risveglierà Nel mentre Quest'angolino Bell Ti sveglierai Anche tu Roll mi un cortito Non sei dentro E niente Anche tu Non ricorderai Negli ultimi Momenti Nel ultimo Diciamo L'ultimo giorno Quando Sei svenuta Totalmente A caso Non ricorderai Nemmeno di aver visto La luce Se hai deciso Di vederla Ma quindi Ricordo solo Di essere svenuta Non ricordi Nemmeno quello Si alza di scatto E si guarda La prima cosa Che ricordi Diciamo È il giorno Precedente A quello lì La tua cosa Che ricordi È tutto buio Giusto? O c'è la torcia? Eh buio Però può evitare Una luce Provenire dal basso Allora si nasconde Non penso sia necessario Ammi notte Check Fammi un perception Check Arrivo Ti metti Tipo sulla parete E tocchi La parete Tipo Prendi una roccia Che era Messa lì Per cadere Esatto Per cadere La prendi La tiri E cade E fai un botto Di casino E Iva ci accorge Al cento per cento Che qualcuno Si stava scondendo lì C'è nessuno? Cosa è spell? No forse non ha senso Dai Non vedi Molto bene Mi vengono via Ok ora inizia a vedere Della luce Mi sporge Ci faremo ecco localizzare Grazie alla mia voce potentissima Eh aspetta Non vorrei causare una frana Just this Ma che Sentite Qualcosa provenire da qua Ma che Hai sentito anche tu? Si Ma pensi che questo sia Come Il tuo insomma E in che senso come il mio? E' il tuo cristallo Andiamo a vedere Non credo Sembra più Posso fare un investigation Per cercare di capire cos'è? Rolla rolla Rollo E gli do elbra che stiamo Tanto portando Investigation Oh cazzo E' un diamante Oh dio E' proprio diamante Mi chiamo bel Che sono diamante Ok e Lo tenendo ti permette di dire Che se tipo Lo Tipo con i tuoi strumenti Lo Lo gathering insomma Lo prendi Ci puoi fare Cinque diamanti Da Trecento gold l'uno Ora che ci fai Ora Non so se ci serviremo Se ci serviranno mai Soldi Ma questo ne vale parecchi Potrei Tagliarlo con I miei strumenti E Portarlo via Hai intenzione di uccidermi? Quindi non ha niente a che fare con quello? Per ora no E tu? Per ora no No Ma come ti chiami? Iva Sto cercando Credo Dei compagni Conosci quello che ha parlato di qua? No Dobbiamo stare attenti Sì Abbiamo avuto un buon tuono Praticamente Da sta grotta Il tuono della giustizia Potete anche sentire Tipo di sega Tu eri con noi Cosa? Eri con noi Oh No Non mi sembra di ricordarmi di te E anche a me sembra di ricordarmi di te Che mal di testa Iva si disporgi Guardi verso il basso Con le facce familiari Quelli riconoscono Ricorda qualcosa? Ha gente che conosci? Sì ma non mi ricordo come si chiamano Andiamo a vedere E vai vai prima Devo fare uno stealth Stai procedendo con Con molta calmizia Sì Vabbè Non stai cercando di Attivamente Nasconderti Allora No Sto soltanto Avanzando con calma E comunque Con la torcia Sarebbe molto difficile Essere stealth Quindi non devo fare un perception Per capire No Mi fare perception Allora mi girò E come vedete La mia tattica ha funzionato Ecco i vostri amici Tutti e due Iva Salve Mi conosci? Bene Ovvio che ti conosco Non mi posso girare? C'è anche Logan? No Non lo vedo Logan mi sembra un nome familiare Sì Con lo scudo che brilla No Solo donne È più una Switch Axe Più che uno scudo ormai Lo scudo Già Oh mio Dio Lo scudo Ti ricordo Ti fa ricordare tutto Ah Lo scudo Un uomo Derito alla giustizia Sento Abbiamo Trovato delle cose costose Mixi le sta prendendo Posso avere le gatterate Mixi Fammi uno Slate of Hand Uno Slate of Hand? Fammelo Sì Sì Riesce che fa Ma che roll giganteschi Se così Se talmente però Che Riesci a Togliere anche Da dentro Come dire Dentro il muro Altro diamante Te ne dà uno in più Riesce a procurarti uno in più Rispetto al Sei diamanti totale Ah appunto Sei diamanti totale Da 300 gold Quindi Sei per Tre diamanti Da 300 gold Però Però Appena fai una piccolata O un Un attrezzo Per appunto Colpire O danneggiare Questo Questa parete Rollate Mi tutti in perception Oddio Rollate Rollate E niente Per perception Zero Oddio I roll così Non vanno bene Gli altri si Beh questo era un Group roll Perché Insieme Riuscite a Scoprire Che Il colpo Che ha appena dato Sta iniziando a fare Un po' vibrare Un po' tutto E soprattutto Il terreno La superficie Dove siete sopra Ciao 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 vi dici una cosa Ai più esperti Dei dungeon Che Sotto la superficie Del terreno C'è il vuoto Come se tipo Ci fosse una superficie Sottile Con sopra Della sabbia Leggera Più state qua Più C'è possibilità Che vi crolli tutto E che adiate Nel vuoto Chissà quanto profondo Ok Allora come prima cosa Corrò verso il goblin Come un orco Senti dei crack Mentre lo fai Ebbene di Per me Grabarla No Dovevi Trovare un patto Chi vuole trovare un patto Sicuro Mi rolli Investigation Signor giustizia Immostia immobile Madonna E' rotta oggi Che cazzo Trova La strada C'è Perfetta Questa era un gruppo E anche Questa era un gruppo Ma hai fatto Tornati di fila No C'era un Perception Da 6 In mezzo Ok 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 C'è sempre Un bilanciamento Beh Il gruppo Diciamo che Mix riesce a maneggiare E mostrare la strada agli altri A un certo punto Si un hack Stava per mettere il piede Nel pool Il punto che avrebbe fatto Cronare tutti Ma per fortuna Mix riesce a prenderla A prenderlo E a fermarlo in tempo E Fermi Fermi No Buono là Buono Abbiamo posito il muro Allora Vedi Le mie orme La guarda Seguite Le mie orme Cercherà di estendere I sensi al massimo E di Dilatare il più possibile La pupilla Dell'occhio magico Per Scrutare Nelle strutture Di sabbia Questa chi è? Signorina Stia Immobile Si No Stia Stare Sente Il muro No Piano Alla chi è Non lo so Deve chiamarci Bell Dobbiamo andare Via Si C'è le mie orme Però Ah Provo un produce flame Non dovete Come se Camminate sul ghiaccio È una magia E viene dissipata C'è 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 una magia C'è una cosa magica È una cosa magica Quindi Eh si dissipa C'è C'è Qualche cosa si dissipa Dopo un po' Ma non c'è una magia Ma non c'è la magia qui? Diciamo Mi sa che l'hanno finita Ora Però cammini Sulle Ferma Stop Tutti Perché qualcosa Si muove Nel soffitto E delle rocce Cadranno Belle Fammi Un 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 Dexter in centro Eh Lo passi Doggi Le rocce In modo Pro Senza Danneggiare il terreno Della sportista Signorina Il suo nome? Sono bello Oh Signorina bella Siamo in un'unitazione Di terreno Poco a poco instabile Sarebbe il caso Se seguisse Le mie orme Da quando Sei un'esperta Prego Segui Segui No Io sto qui Che persone simpatiche Piacere Persone simpatiche Sì Anachiba Piacere Piacere anche voi Guerrieri Io sono L'eroe Della giustizia Il simbolo Della pace Il mio nome No Non lo ricordo Ancora Cosa Vi ricordate Del Di mano cordiale Corretto Stringervalo Vicosamente Sì Farmi un roll Ferma Farmi un roll Farmi un perception check No I perception Non mi riescono bene Anche Il suo Anche Il suo Anche Il suo Ha fatto Fammi fare Gli investigation Quelli sono Una spada Nulla Distrano Tutti distratti Da justice Va bene Ah justice E niente Perché quando metterai il piede qua Il terreno Si spaccherà Un single Che Era quasi impercettibile Nulla poteva Farti capire Che qua c'era un single Un single Metto Accio E fine campagna Faccio un bacio Ma io sono abbastanza distante Credo Dipende Qua Le prime cose Che roll Ok Un bitino Anni Roll me Un 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 acrobatics per cercare di non cadere ah fammi vedere quello di più dove mi sa che sono tutte e due sotto lo zero ok farò un acrobatics riesci a bilanciare il tuo corpo e a schiantarlo contro la parete del muro evitando di cadere all'interno ma adesso dovrei farmi un investigation check per cercare la strada per sorpassare questo sinkhole beh provi via senza nessun problema che è passando vicino al cristallo a proposito del cristallo che cos'è questo affare? lo osservi e ti sembra un cristallo non è il caso l'ultima volta ha distrutto tutto non toccate i cristalli beh è sufficiente questo cristallo è un cristallo che non vale molto sei esperto di gallerie ok però ha comunque un valore diciamo che vale più o meno 15 silver a pezzo a pezzo e se vuoi provare a gatterarlo sarà un 2 di 10 di pezzi di roll il terreno è un po' instabile non vale granché quindi passateci sotto e non sbattete la testa soprattutto per voi tre si può saltare non devi nemmeno abbassarti infatti io sono un metro e dieci praticamente dimmi si può saltare si puoi saltarlo non l'ho detto però si può saltare se lo vuoi mi sembra che sia più facile saltarlo o passando di fianco passando di fianco non devi fare nessun check passando di fianco anche perché se saltavi chiedevo al pavimento tiravo fuori il cannon se abbiamo intenzionato a saltare il buco stop ma cosa dici? perché c'è qualcos'altro sempre se vi accorgete questo è olografico c'è un check tutti quanti il cristallo multicolore il cristallo del prize il cristallo e beh giugno ok in alto mixi puoi notare che è tipo questo terreno anche dal sinkhole ci puoi notare c'è la superficie è molto più adesso siete al sicuro diciamo non può crollare più il pavimento e quindi è a posto però scoprite qualcosa davanti a voi c'è un cristallo questo cristallo a chi si avvicina troppo flashrà flash? flash e metterà un'onda sonora di 100 feet tutti quelli che verranno colpiti dall'onda sonora o dal flash o da qualsiasi altra cosa che emita dovranno passare 11-11 wisdom centro o verrai confuso per uno di quattro minuti lo stato sconfuso vuol dire che puoi fare tra tutto se è confuso se è un distinto in più destra a sinistra avanti e indietro tipo come una sorta di ubirecchezza no? e puoi fare solo un'azione per per round una sola azione per round puoi avvicinarsi quanto abbastanza diciamo non c'è un cosa ecco per passare qualcuno di voi dovrebbe passarmi un 10-20 arcana check per stabilizzare il cristallo e impedire che emetta questa onda è l'unico modo di passare posso provare a rollare io che ho expertise arcana mi sembra anch'io ce l'avevo dobbiamo provare tutti ma un dispel magic tutti un dispel magic funzionerebbe ma vediamo arcana oh lol beh se c'è oh oh beh beh oddio addio è esploso hai già visto questo cristallo hai già visto questo cristallo Iva nei tuoi nei tuoi viaggi basta scagliarlo in una freccia oh shit e trafiggilo e per cioè tipo spaccarlo basta spaccare la struttura di questo cristallo e per un po' di diciamo un po' di minuti sarà stabilizzato non lo esploderà quando passate e se fallisco il tiro puoi lanciare un'altra freccia finché non la fai le hai finite credo di sapere come fare oh vedo che siamo circolati di persone molto abili eh eh tiro ti do la guacca sulla spalla aia tiro normale si beh proviamo bello itty il cristallo ci spegnerà cioè il colore multicolore inizierà un po' a dissiparsi e 6 adesso per passare se volete passare fatto quindi il fuoco non era la risposta ok mix provate voi di che il cristallo si accende e poi ci spegne subito ermo non è la risposta in questa occasione ma il fuoco del nostro cuore è sempre la risposta quindi procederete andando in avanti risposto io in questa parte un po' morta ok fino ad arrivare qua questo bivio è arrivati qua qualcosa accadrà di molto stus qualcosa comparerà un simbolo comparerà sulla sabbia e come si stesse bruciando comparerà giustamente qui questa cosa qua attenti inizia a illuminarsi sempre di più fino a che non uscirà una porta punto alla bacchetta non vedete cosa c'è dall'altra parte di questa porta perché è come se fosse un velo di luce opaca no penso se qualcuno ci entra uscirà qualcuno ariman sei a metà della porta puoi muovere il tuo personaggio se vuoi se hai permesso faso faso mi sei fk no faso non sei fk vero batti un colpo se sei fk aspetterò un minuto altri due dai allora in questo minuto mi prendo un gelato e l'acqua sei mutato stai parlando faso dai bella gente avete un minuto due se fosse fk avrebbe morsi immagino ma il cane di prima era di faso quindi faso non parlava era smutato ha abbaiato il cane e ha scritto la vagina si dai ragazzi fk chi è così coraggioso da entrare in quel portale guarda non credo sia il caso è la nostra salvezza lui corre dentro c'è faso qua non c'è iva c'era l'agenza cane che non finiva di abbagliare per via dei fuochi d'artificio ma perché ti hanno i fuochi d'artificio ma che cazzo ne so ogni giorno qua una festa perché è un posto felice è un posto felice ogni estate manca sempre la corrente oddio è un pixel bianco se sei iva spinna no non c'è ok è tornato mangio gelato ok hariman puoi muoverti il travedere la figura che attraversa la porta un essere malvaso chi sei e non dirmi che non te lo ricordi neanche tu devo farlo il check no tu no palla operisci nel nome della giustizia non palla non mi sta ascoltando ti ignora vengono il sguardo vengono il sguardo del cosa? non si sente voi voi chi siete? sembra cattivo io sono fio anche tu chi sei? ma non mi chiuso non mi chiuso non mi chiuso ecco che non calma non calma non respira il mio io sono il simbolo della pace il mio nome no non lo ricordo ancora animand respira profondamente non devi sforzarti a fare quella voce per una volta sono contento di essere vivo sei sei un demonio non così infetta il demonio eh voi non conoscete non sapete ah non lo sapete se lui è un diavolo che vado proviene da un posto demonico ma se ma cattivo però magari non so però il pentel la stella per terra e la porta rossa di fuoco non mi promette niente di buono che intenzioni hai? che intenzioni ho? bella domanda butiamo cose che ricordo era buio pesto anche tu è una balena è una scuola è una scuola e direi ero in un luogo alquanto bizzarro e poi ho visto un'enorme creatura che mi ha divorato ma sei qui sei vivo sì sono vivo qualcosa deve avermi salvato oppure siamo siamo morti tutti siamo tutti morti impossibile mi do un pizzicotto lo sento? lo senti? no sono decisamente vivo non credo che un pizzicotto sia un metodo ragionevole tranquilli un scemo da qui il lesi no guarda le mani anche te penso da sospetto dal cappuccio ti aiuterò ad uscire di qua e usciremo tutti quanti non ho detto come si chiama dai dietro no un attimo ti cambio perché sembra che c'è un bordino bianco il tuo pizzico ah sì lo metto io mi diminuo ok però non c'è più in teoria no? potete continuare comunque sei sospetto assai ti tengo d'occhio non ti sparo solamente perché non ho ancora capito se questo è l'aldilà bell rolla in un'externa in centro l'altra roccia inizia a una cadere l'altra roccia da dietro il corredore inizia a cadere dall'alto e ce l'hanno con bell riesce a salvarti nello specifico ma puoi vedere perché sta cadendo sta iniziando a crollare tutto qua e dobbiamo muoverci qui andiamo andiamo ah do dove guarda in tuorla rollo rolla eeeh 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 cazzo si che pavolgeva martello in mano eeeh 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 anche qua tipo sembra che sta per crollare roba eeeh 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 tentando di guardarmi guardarmi alle spalle per capire se qualcuno sta rimanendo indietro wong un masso gigantesco ti cade tipo di fianco nooo aspetta non me lo faccio eeeh 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 ecco così sei il botto indietro oh no iva eeeh 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 diverso eeeh eeeh un bivio si rolla il bivio si rolla il bivio puoi notare una luce blu in alto proviene dall'alto e come c'è la luce? non c'è non c'è buh ma dalle altre parti non c'è anche da qua puoi intravedere una luce di torcia però è più o meno da questa parte è più assicurante appena appena però la cosa che vi che vi ehm prende l'occhio è qualcosa che sta sul terreno la luce blu scoprite quando sorpasserete appunto girerete la curva vedrete l'angolo c'è un mega circolo magico oddio un altro un fascio di luce un fascio di luce al centro come se si fosse come se si stesse stendendo verso l'alto e poi vedrete una figura completamente blu come se questa questo fascio di luce ricoprisse la sua la sua tutta la sua persona e si creasse questa silhouette blu per poi scomparire dissiparsi ma sta coccolando qua? eh no this is safe oh oddio darko un altro uomo qualcuno ti ha sammonato nel momento in cui tu appunto ti stavano sammonando stai guardando verso questa direzione qua si un'altra persona senti qualcuno alle tue spalle di giro un genasi chi è quella gente? dove sono? oh no anche questo non si ricorda niente il mio personaggio il suo dark vision è diverso dagli altri o? solo un dark un dark vision qua funziona si può vedere nel buio è quello è quello di ariman lui ha il devil sight chi sei? voi chi siete? chi sei tu? anche qua non è buio questo eh comunque ah ok la luce è proveniente dal centro qui si può vedere anche senza torcia sei con un passo come se fossi il capo di sto posto c'è un luogo enorme dietro in te no non è il mio posto qui e allora chi sei? io sono l'alto sei tu? chi sei? chi sei? non dimmi che questa è tutta opera tua no? se questo è un altro dei tuoi giochetti io vengo lì madonna no no si conoscono lui mi conosce io no ma chi sono questi? che cosa è combinato stavolta? prima dimmi chi sei e come mi conosci? sono Ariman si chiama Ariman ha cambiato look shhh sono amici tuoi quelli dietro? no no sai dove siamo? no non ho idea però se anche tu sei qui vuol dire che tu hai fatto qualcosa in realtà qualcuno ha fatto qualcosa perché io non ero neanche più qui ma sicuramente tutto questo è opera tua in qualche modo non lo escludo però vabbè potete includerci? io non ho capito niente bene questo individuo qui lo indicherà passeremo un sacco di guai per copra sua ecco qua ma si si giù la luce mi sembra una nuova persona 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 che mi interromperà proviene da qua in alto mi fa lo spazio mi sentite? si si mi hai crasciato? no aspetta proviene da qua ok un attimo Ehi sento delle voci Bilbis qui c'è qualcuno Oh nascondetevi Nascondetevi presto Ma come nascondetevi ci servono risposte Sentite di pazzi sopra delle travi Delle travi Magari hanno trovato Logan D e gli altri E' popolato questo posto Ehi la Siamo sicuri? Aspetta giustizia ferma Chi va là? Giustizia Ci avete mostri? Hanno morito Oh no no è grossissimo Gigante vero? Gigante Oh una donna Un elfo? Sono maschio Voi che siete? E che si fate dal lato chiuso Della grotta? Bella domanda Che cazzo avete fatto entrare? Lui scuterà tipo da dietro Da sotto le gambe Siamo diversi qua Come fai a essere così grosso? Ma vuol dire che lì da voi c'è un'uscita? C'è l'entrata casomai Non l'uscita L'entrata per dove? Dobbiamo dire che voi state in cerca della lastra delle anime Siamo arrivati prima noi Ma che cazzo me ne frega dalla lastra? Io voglio uscire da qui Dove siamo? L'asta delle anime Beh dove siamo allora? Si metterà a parlare in privato con lui È gigante Me ne frega niente Se non risponde io esco il cannone Che termine scuovile Ma la finima Cosa capisci? Cosa capisci? Beh non mi interessa chi voi siate Basta che non interrompete la nostra ricerca Una domanda L'accesso alla sacra leggendaria turre Sarà mio E non vostro Non mi interessa Saranno tutte mie Ti entri Basta che mi dici come sei entrato qui E come si esce da questo posto Vuoi uscire? Si perché non so neanche dove sono Beh l'uscita da quella parte Ok Tu vuoi continuare la compagna Devi andare avanti Nel senso è andare nella turre Non uscire Si ok Il personaggio si è ritrovato qua Non sa dove è Uscire dalla campagna E quello è Si 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 Ti tolgo Mi si I cammina davanti Guarda dal basso del suo metro e dieci Sei di coso con i capelli fluenti Dobbiamo ripetertelo Non mi interessa Dobbiamo ripetertelo altre cinque volte Ci siamo svegliati qui E non sappiamo dove siamo Quindi piuttosto che giocare a fare gli archeologi Ci interessa sapere Se siamo ancora sul piano materiale E se il mondo non è finito Ti guarderà Poi guarderà lui Mi mancano anche altri amici Sbaglio Dobbiamo Tra l'altro Giusto? Dov'è il draghetto? Lui si aggiusterà l'occhio Tipo per Come dire Il monocolo Qualsiasi cosa abbia Nel Negli occhiali Ok? Un momento Non l'ho mai visto Non è fosigante Tipo Nurata Beh siete Nella In una delle montagne Dimenticate Di Eshel 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 Quindi Com'è che si chiamava il continente Siamo ancora nel continente No no siete Aigis Siete Aigis Siete a casa mia Ok siamo ancora Aigis Tekken Tekken Dimmi Il mio personaggio Aveva capito che era finito Su un altro pianeta Ehm Quello così so come ruolare Sta E come si Alla mio perception Per vedere se l'ha capito Ok No Noi eravamo su un carretto Prima Ci siamo svegliati qua Sì l'ha capito comunque dark Quindi sono tornato Io non ho idea Comunque voi avete parlato Di altri Vostri compagni Amici Beh se voi venite Da quel lato Della zona inesplorata Che era in trollo E non c'era nessuno Da quella parte Allora Da quest'altra parte Dove veniamo noi Non c'è nessun altro L'abbiamo visto Quindi si Sanno avanti Ci saranno svegliati In altri luoghi Beh vi posso offrire da bere Se avete detto Vi siete appena svegliati qua Venite Vabbè Non mi piace Questo cambio di atteggiamento Potete sentire Bilbis Che dirà È il caso di Dali da birra Sottovoce Fate un perception Per vedere chi Lo sente Sì Loro non sono interessati Alla torre Vi daremo da bere Da mangiare Poi Li faremo andare via E noi ci prenderemo Tutto il loot E qui te lo andano avanti Ma posso C'è che è di capire Perché questo elfo È di taglia large Ah Dovevi farmi un potentissimo History check Per capirlo Potentissimo History check Sì Fatelo Ecco Non è sufficiente Ho detto potentissimo Non è abbastanza potente Di nuovo No Ah beh Niente 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 Sono attenti Un di sei se vuoi Ma Eh Mi sei andato No è troppo tardi Sui tirare Il bardic Non è un bardic Ma più o meno Salve È accaduto qualcosa Signor Takahashi Takahashi Tipo vi sta guardando in modo What the fuck Sto vedendo Si può notare qualcuno Che viene da Moroa Che ha il stile Di armi E armature Che da tempo Che non vedevi Si avvicina Non di molte parole Si inchinerà Riconoscendo Sarà l'inchino Anche lui Venite Bilbis Tu puoi controllare La ricerca Andrà Qua Salterà sul tavolo Gigantesco tavolo Tra prendesi E inizierà Tipo A guardare Le mappe Le varie cose Prego Potete entrare Appena apri la tenda C'è qualcuno Davanti alla tenda Che stava per uscire Boom E voi chi siete Che sono Fammi passare Sto scendo Lo guarda Malissimo Un'altra Un'altra persona Grande Lo guarda Lo vicino Mi ero spiaccicata Con questo in giro Prego Prego Apre Ci sono altre persone Grandi Che devo dire No Ok Vabbè Davide Viderà Da rinfrescarvi Dentro la tenda Non c'è una Dentro tenda Guardo E niente Esco Beh Uscì Anch'io Lo è Quindi ora Ve ne stavate andando Giusto? Dobbiamo cercare I nostri compagni Sicuramente Sono là È pericoloso Però Ma siamo forti Dovrei avere Forti quanto la montagna Che vi schiaccerà Da sopra Sono più forte Di una montagna E sono forte Quanto un vulcano Io Sono il simbolo Della pace E della giustizia È il mio nome Qual è il tuo nome? Non lo puoi Ma come? Non lo riconosco Non lo ricordo più Beh il mio nome è Ralif Io sono siano Posso? Oh Stavo per pallare La tomba dietro di me Perception Ti guarderà Se stai parla Non sei mutato Non ti sono Ah fuck Sono mutato No Mamma mia Avevo solo detto Bella Inna Posso porre una domanda? Vai Non ho mai visto Elfi della sua stazza Perché è così grosso? Beh io Poi quella lei E lei Veniamo da una tribù In una foresta lontana Tutti noi eravamo così Poi noi ci siamo messi All'avventura Lasciando le tradizioni E la tribù Capisco Comunque Sì Avremmo altre domande Il Non c'è stato nessun Aspetta che si gira Pascio di luce apocalittico Nei ultimi giorni Noi da azioni che siamo qua dentro E non avete notato Niente di strano Dentro la montagna no Ma Un'ultima domanda Per sicurezza Avevo un'amica che gestiva Cose del genere Che anno è? Siete nello stesso anno Ok Stesso anno Il tempo non è cambiato Il giorno non è cambiato Non è strano Diciamo che siete Qualche ora dopo Di quel pomeriggio che stavo dicendo prima Ok Oddio ma aspetta Lo spazio tempo come funziona? Io da quanto sei ero via? Dallo stesso tempo Cioè appena tu sei arrivato in quel pianeta Dopo 8 minuti Che hanno sammolato In questa montagna Ok Eh siamo a Eschal Non sono andato così distante Posso fare una domanda? Occi? Dimmi Dato che Iva è di Eschal Sa qualcosa di questo posto? Conosce minimamente la zona? O 0-0? Ah questa montagna Non è nelle mappe Ok Cioè tipo vai a vedere la mappa Immagino che adesso Facciamo uno skip Perché sto dando troppo Questa parte roleplay Quindi Cioè vedere le mappe Questa zona Non è assolutamente Nessuna mappa E Gatterando un po' di info Così Riguardo questo luogo Si dice che Eh Ogni tanto delle montagne Compagni non da nulla Ad Eschal Ok E in queste montagne C'è la possibilità che ci sia La lastra Delle anime Che dà accesso alla torre E io la so questa cosa quindi Eh Diciamo che lei l'hai scoperto adesso Gatterando l'info da 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 Bilboss Dio Non è che la lastra è proprio questa Quale? Niente Beh adesso Ditemi Che condizioni avete Tipo Se andare Verso dove andare Che vi sposto Beh questi ci vogliono mandare via Però ovviamente Sarebbe il caso Di non andare via Eh Ditemi Tipo Che scusa di dar Tipo Dove cercare i loro amici Eh Ok allora vi metterete L'avete convinto Ok Nonostante che tipo Non avete paura della montagna Allora Vi raggruppo Perché loro dovrebbero unirsi Motivation Non vuoi Non è che non voglio Sto rolando In che senso loro non funzioniscono No io sto pensando che Loro si sono ritrovati qui Con gente che non conoscono Ah Semplicemente tu vuoi loot Ok Ho appena detto C'è una torre con loot immensi Ok Lo vuoi? Sì Gli altri sono chiaramente cercato di andare a prendere Ci sarebbe una risposta diversa Ci sarebbe una risposta diversa Comunque Ok Nella serie Se siamo stati tutti risvegliati O evocati qui per Se è per una ragione Non penso che ci siamo ritrovati in una grotta a caso La ricerca di un artefatto a caso Deve essere Collegato a quello che ho successo al flash E al fatto che Questo coso Si è stato chiamato qui Lui è Anche io sono stato chiamato qui Non è normale Credi? Chiamato qui da chi? No Non è assolutamente normale E noi stavamo nel carretto Il flash Manca Manca D Manca Logan E tua sorella Non possiamo andarcene basta Dove è andato il tizio? Nella tenda È entrato dentro la tenda Ed è sparito Per lui Ma gli sparavo Se volete Parlarne conviene fuori da qui Si Andiamo a cercare gli altri Tre virgolette Va bene Non capisco Come cosa sia successo fuori Beh allora Vi inizierò a spostare Vi sposterò State parlando Come se avessi visto Qualcosa di apocalittico Forse abbiamo Solo sognato Ma Il cielo si era spaccato E Le mie mani stavano andando Considerando che sto ricordando Quasi tutto Io ho visto quella cosa Sì No Cioè Ho deciso come ho detto prima L'ho deciso il player Se l'ha visto o no Allora non l'ho visto Ok Allora no Il mio personaggio l'ha visto? Che lo sta dal tuo pianeta Il tuo si Il tuo si Ok Sembra che parlate qualcosa che non so Ma non me ne preoccupo Allora Mentre voi stavate camminando Potete notare Potete notare Che tutti Loro Quelli che avete visto almeno Mi stanno cesando Da dietro Per assicurarsi Che vi do Quindi tipo Piano piano Da E ci stanno seguendo Sì Cosa fate? Qualcosa di evasivo Vado avanti Ho una missione da compiere Fermo Fermo Prima di andare Arrollami Un perception Non vedi nulla Ok Continuerai tipo Andando avanti Adesso mi sposto Un attimo qui indietro Perché Dove adesso Stare la camminoria Così ecco Non noterai nulla Allora tipo Tutti gli altri Fatevi un perception Qualcosa si sta muovendo Qualcosa si sta muovendo Sotto i vostri piedi Ehi Ma che è Sotto i sti Ok E Tutti quelli che hanno fatto Dieci in su Lo riescono a notare A quanto pare Pochi Lol Ci sono delle cose Che stanno muovendo Nel terreno Sotto qua Tipo Sotto la sabbia Esce Iniziano a uscire Delle cose La sabbia Tipo c'è qualcosa Sotto la sabbia Anche sopra Adesso la noti Chi ha fatto dieci in su La riesce a notare Soprattutto adesso Che è vicina Si sta avvicinando Presto Vieni qui un attimo Per un attimo Fa la descrizione Ok Ossa Carne Larve Stanno uscendo Dalla terra Da murri E dal soffitto Ci spostano Come se fossero Degli oggetti animati Sembrano percorrere Tutti la stessa direzione Che porta Alla mega Alla mega stanza Centrale Come se ci fosse Qualcosa Che li attirasse Ma appena Appunto Incontrano voi Cioè siete Nel loro Nel loro Nel loro strada E state bloccando Le ossa Si congiungeranno Insieme Alle altre Formando scheletri Poi la carne Putrida E larvi Inizieranno A convergere Negli scheletri Formando delle creature Che possono ricordare A zombie Come se fosse Un processo magico Insomma No Come se fosse Un vortice Insomma Che si attacca Queste ossa Ma uno di loro È chiaramente diverso La carne Non si è solidificata Come negli altri corpi È ancora animata E si sposta Costantemente Salendo E scendendo Entrando E uscendo Nelle ossa Di queste creature Sicuro E' un momento Di cambiare Track E' di mettere E di roolare Iniziativa Soprattutto Oh boy Sii The first encounter Dil Di già Eh si Sono loro In realtà Ok Ok Mettiamo così, così, boom, boom, boom. Ok. Rituzione, ve li spono. Sono parecchi, innanzitutto. Oh boy. Sono tutti intorno a noi. Stiamo divergendo verso la cosa. Arimano non è riuscito a scoprirle prima. Che arrivassero troppo vicini a voi. Ok. È ora di mettere una combat track e di rollare l'iniziativa. È di sta passi alla griglia. Giusto. Up to grade. Sì, più o meno qua. Stanculo sta musichetta, del cazzo. Io non ricordo niente di come si combatte. Eh, tu devi andare lontano e sparare. Ed è in mezzo a tutti. Ah, la Lell. Bello. Lello spazio. Beh, non ho mai visto di fianco, però. Ah, da, da, da. Snap tutto. Snap. Snap. Sì. Poi, roll initiative. Arriva. Uno, due, tre, quattro. Signor demonio, questi sono amici suoi. Pasu, vedrai un Darko nuovo. Dov'è la mia initiative pro? Non sono amici miei. È un bravo. Oh. Ok, qualcuno l'ha bruciato. No, rirollo, perché non è riuscito a giusto questa. Oh, questo è giusto. sono tutti? ci sono tutti? si sono sono primo 2 3 4 5 6 7 8 sono ultimo ho fatto 20 Ariman Ariman tipo scrocchia c'è un gruppo di nemici essi sono zombie vogliono la tua carne voglio mangiarti l'interi ora eeeee eee Ariman tipo si scrocchia il collo e muore ma sia come quello di Aspie come quello di Aspie ooooh 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 eeeh lascia a secco su quello grosso LOL scopri tutto scopri tutto oh no i documenti devo fare documenti non ti aspetterò questa volta eeeh allora questo nemico ha questi tratti Animated Flash Unusual Nature eeeh eeeh ha queste abilità Glow Attack in PlayStation e Regeneration eeeh eeeh e se volete potete c'è già la il coso per potete cliccare i nemici occhi a non spostarveli in teoria se volete vedere il hand out non dobbiamo assolutamente cliccare le loro abilità con questi con questi non importo perchè questi non cliccatele non dovrebbe funzionare perchè c'è la botta destro o show and out? si destro o show and out? si ah ok ah oh così posso fare l'immaginina lol eeeh Ariman cosa vuoi identificare? ah vi dico i tratti innanzitutto si eeeh Animated Flash se lo spawn of Kian è preso di mira da un effetto che cura una malattia o rimuove una maledizione molta della sua carne vivente che lo infesta appassisce e perde la sua azione in infestation unusual nature lo spawn of Kian e Kian lo dirà non ha bisogno di respirare mangiare bere o di dormire cosa vuoi identificare della sua abilità? posso identificare le vulnerabilità le debolezze certamente vai vuoi questo? si come primo perchè io puoi identificare due eeeh qui Condition Immunities Exhaustion Poisoned Damage Immunities Poison non è nient'altro hm se vuoi rollare history su questa creatura rolla mi mister su questa creatura ok niente prego un'altra abilità puoi identificare eeeh infestation cos'era? infestation è la sua abilità principale attenzione questa abilità perchè lo spawn of Kian lo spawn of Kian lo spawn farà questo eeeh togli il G eeeh 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 eccola il target colpito fino a un massimo di 10 di 6 pari al numero di volte che viene lanciata questa abilità di un target singolo se una creatura scende a 0 hp essa muore e si rialzerà 10 minuti dopo come un nuovo spawn of Kian la carne animata dello spawn può essere rimossa attaccandola usando oppure usando l'azione per scrollarsi addosso a 6 1 hp o da un effetto che cura una malattia o rimuovo una maledizione a te l'azione o da una a 15 ecco che è andato sempre dietro di me si nasconde c'è una sola ex bonus axola tv attenzione che la tua attivare una spell non ti potrà fare attivare un'altra spell lo stesso turno si si consuma la spell 6 allora a spesa c'è scritto 1 ma in realtà sono spell di livello 3 ok prego seleziona un'abilità ho andato a te la fa clicco ok lo puoi andare il cuore in una cosa anche voglio tirare eldish blast no dimmi che cosa vuoi devo farli ok certi e ti conviene strumento del dato che è un atletico non ci può fare penso un pezzo di prego eldrich blast prego il tuo albis blast passerà dalla tua mano infonderà in energia dell'inferno e colpirai niente lo spawn of kian con successo facendogli un bordello di danno esattamente 14 sai che mi sono appena reso conto che quella macro è sbagliata e fa solo un roll dove è l'altra due roll non so se no 2 di 10 ok riro alla l'ora c'è ritira di nuovo ok ed è un hit oh cazzo facendo 20 di 14 fort damage e 6 necrotiche prontata di 20 damage scalpisci il nemico quella tua potenza ma perchè due volte scusa ma aspetta il punto è che non deve fare due di 10 deve fare un di 10 e rollare due volte la macro dimmi se c'è scritto 1 e 10 2 di 10 se fa 14 e se fa 14 nebrà due di 10 e quello il problema non so perché dipende perché potrebbe avere un'altra cosa che non è che non sembra non è uno di 10 mi sembra allora doveva dire che lo vediamo due volte è ok è a po' va bene così è ex proc si ex in teoria è già dentro non è quel 6 si è quel 6 ah ok perfetto perfetto vabbè finchia passo i tuoi eldris blast hanno rimosso parte della sua carta animata d'arco marshall ui bello beh in teoria su uno di quelli di questi qui sotto neanche eh sì dai questi qua funzionano sono semplici zombie mob ok HP HP allora cosa vuoi sapere? HP 22 22 sono 12 va bene? 12 è sufficiente perchè è un zombie di merda un zombie livello 1 devo ricordarmi cosa fa questa è quella ova no non è quella ova e tu ti leghi a uno e ok questo è l'andolo mi neanche trovo cos'era questo è il bel cieco o lo so lo trovo qualcuno mmm allora io avrei un'azione sola quindi vado di se io faccio tipo Guidant Bolt non posso fare con il bonus action la spiritual weapon giusto? summonarla eh Guidant Bolt non so due livellate no non puoi farlo non puoi farlo però posso fare una cosa niente bonus action spiritual weapon ok mettila lo sto prendendo però lo metto così aspetta ma io ti ho dato non c'ha l'azione dentro no va bene lo calcoliamo aspetta ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho a quanti fit? si si però non importa lo calcolò si può calcolare anche a mano va bene ce l'ho da mano allora Darko va bene così se volevo mettere quant'era 60 di distanza di feto? aspetta eh più che altro voglio molto vicino a qualcosa mmm non so se al boss qua al boss almeno questo qua strambo e lume attacco ok rollami un bdc ok un di 20 più 8 allora di 20 più 8 e uno di 8 più 5 di damage uno di 8 più 5 si la fai 6 di force damage e se ho capito bene però con la stack per quando switch giusto? si bene non c'è stack c'è si l'ho attivato ok si l'hai attivato ok quindi bonus action usata ho per ancora un'azione ma non posso fare più di tanto bonus action usata hai ancora un'azione si c'è un country potete usare è vero tipo i guidance ai come sacro flame altra roba simile world of radiance cosa faceva fa vedere come se 5 fa un po' più di danno questo mi sa pico puoi fare questo sui zombie e figo no? ah 5 fit ah 5 fit e quel fit di rage world of radiance beh c'è scritto là in teoria se le macro sono giuste se le macro sono giuste se le macro sono giuste dovrebbe essere giusto come si sa che tipo a touch ah anzi si intera da quello lol va bene e niente allora farò questa sacred flame guardardo vai qua e fai world of radiance su di che spona solo spona ma un dexter che c'è dentro e lo passa non prenderà danno questa volta eeeh hai altro? non penso quindi passo iva eccomi arcana giusto? posso farlo? si ok arcana non è sufficiente cosa vuoi identificare? regeneration regeneration eeeh sta eeeh 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 loggeta? kungja? anche idem effect oh fuck vabbè non importa idem effect non importa quella era la versione vecchia non fast ma c'è quell' idem effect c'è 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 non è più idem non è più idem ok oh ok va colpito non è più idem non è più idem non è più idem era il piano di metri idem ma non è più idem da ho acido succede ho acido eh ma chi ha acido io ce l'avevo colpito ah ok OP beh io intanto e poi i shoot the bad guy e gli fai abbastanza male mi sa che lo finiamo prima che faccia un turno è venuto eh c'è solo questo tanto non penso di potermi nascondere qui quindi boh no e passo mmm passo si dovete avere ah non ha extract a capire il no non ci vuole ok passi eh si ahhh ahhh è scondata i zombie vogliono la tocarne ahhh ahhh un attimo provo a focussare lo spawn con uno scorching ray e lo cerchiamo di friggere l'indisistante oppure gestisco gli zombie qua davanti no fai lui faccio lui si però io ho solamente due spell di livello 2 se uso scorching ray adesso potrei ci penso io a quelli sotto non ti preoccupare si però alle spell vabbè non so se è il caso io li faccio fuori tutti con un colpo solo io penso di andare dal big guy dopo eh eh lo so ma si rigenerà di 10 sempre vabbè userò uno scorching ray sullo spawn of kyan prego rollo rollo oh hit 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 tutte 3 hit anche 11 si ehm non rispondi si non ne ha ne fatto uno quindi un hit seguo 14 22 da damage no? eh 22 fa il damage no è vivo lo bruci tutta la sua cara animata inizia a prendere fuoco e a dissiparsi si ormai è in fin di vita cosa fai non ho evocato il cannone quindi non posso usare la bonus action ballista a spendi lo spell slot come? non devi spendere lo spell slot? no mi rende un'azione non posso poi sparare con la bonus ho già usato la mia azione no è lo spendi lo spell slot dell'orskossi ray quello dicevo ah ah spendi lo spell ah si giusto hai ragione eh 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 era un povero un gioco eh era un povero un gioco effettivamente oh perchè spella anche d'arco? eh io dovevo spellare quello di prima che sono dimenticato però perchè c'ho 0 scusa non mi li hai resettati no non li sono resettati a quanto pare eh lo che fula li tolgo si ehm posso fare un'altra spell livellata quindi come bonus action ehm spendi come bonus action ehm fuck dovevo usare antresmark e l'avrei ucciso mmm niente me ne vado allontanati si dietro di lui spesso no no in realtà non è così spesso è spesso ok beh cerca di tenermeli lontani ehm ehm passo anzi per te marshall posso? dai ho passato ahia lol eh dai puoi puoi dai però hai ragione però arcana non c'è tactician mi sono niente cosa identificare ahm animati flash è un'abilità non le ha dette ma non ah è un tratto ma non l'hai segnato va bene ci sono altri due tratti che non ha segnato uno è unusual nature quindi e li passa verso ok aveva abilità mancanti oltre infestation e regeneration eccati il cosa esploso thank you thank you ci sono due tratti eh questa roba eh occhio due non ne hanno tre eh ci sono due perché no questi sono due tratti sono cioè animated flash e unusual nature ah ok ok i zombie sappiamo già che hanno 22 hp quindi eh resistenza e vulnerabilità e invulnerabilità degli zombie eh uguali eh immunity cioè non è uguale però condizion immunity poisoned damage immunity poison ok va bene niente allora posto 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 eh sì sì eh tocca il loro turno non dà la sua prima creature che vedono eh 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 ah 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 yes ah yes come io ti tempi adesso dammi gli editing poteri tu vuoi allora questo dacca te hm hm non mi muovo neanche non me li hai chiesti vero? no speri uno due tre quattro cinque sei ehm non ce l'ho ehm non ce l'ho ok quindi 1 1 2 3 4 5 ok no ci hai 19 ti provano a mangiare ma tipo in qualche modo riesci a a tenerli lontani dalla tua carne e tutti i colpi inizieranno e tipo questo vedo che tipo giù si mette male eh quindi ho miso vincere io ho misero tutti ho misero tutto ho misero tutto ho misero tutto metrò orladin o 1 e niente ok prendi un danno di 2 di 6 subito sì fammi controllare una cosa giusto per sicurezza lol voglio solo controllare una cosa no ok niente ok ti farà 6 di necrotic damage non fa nient'altro poi questo ok e poi ci sposterà di qua e proverà a attaccarti con gli artigli credo di prendere più carne possibile dal tuo corpo ouch nat 20 1 di 6 no farà tipo 1 di 6 più 2 di 6 3 di 6 di danno addizionale boom ok prenderai sorrisore 15 24 di danno prenderai fra 24 di danno ma corradin sorriderà e risposta e poi sarà il turno di bel penso che farò un entangolo qui prego non prende anche si no non prendo anche si è una di tex 30 no strength 1 2 3 4 e 16 e la prendi 3 qual è quello che ho fallito il la ha la passata risci 4 4 2 3 2 3 e e e e e schifo però mantenetelo ok e prendi lo spell se non l'ho fatto ah si scusa scusa siiii consuma consuma consumable e bonus action non è omica ah una bonus action ma non va bene bonus action vuoi insight non è una bonus action ma qua poi è gratis ah è gratis qua ah è gratis qua? accidenti eh allora facciamo qual è che conviene? qual è che ci sono? beh prima lo fai e poi si si ma il marshal intendo ah marshal e arcana ah marshal e arcana ma però il marshal ah il boss ok è sufficiente cosa vuoi identificare? agli HP attuali ne ha 4 su 76 ma 4? io ho fatto 10 danni eh? 4 su 76 si 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 già fail eh mi ce ne riesco io ok non si è non si è rigenerato si è rigenerato? no perchè l'hai fatto fire damage l'hai fatto fuoco ah ho capito eeeh me l'hai fatta apposta di nuovo ma pensavo fosse solamente per la seconda parte fai altro? passo 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 si è un hack tanto attacco questo hai vantaggio uuuu interessante boom boom 3 si danno uno lo faccio boom 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 eh sempre sullo stesso? si con questo colpo li taglierai un braccio che cadrà a terra e morirà e poi è anche questo stai usando solo Polo Air Master? eeeh ah no il secondo colpo è stato Polo Air Master è il secondo colpo è il bonus action ah ma tu hai? che è stata? eh sì ha usato la bonus action perchè ha detto è più conveniente ah ok adesso lo faccio vai è pro diabo è pro scusa vai vai prego ed è un hit ehm è proccato a questo qua le taglierai la mano che non possiede l'arma però comunque sempre hai tagliato la mano niente mossa ripeto no eh passo no spostati da lì no Radin eh il tuo turno ho ricordato il mio nome si basta che non ti fai più beccare come un simbolo della giustizia ma schiva l'eroe corradin pischi ah è della carne che si sposta vado in rage aaaaaaah e cambio talk un momento come il tiro la carne animata e si sposterà le corroni inizierà tipo a a infestare vai vai non importa colpisco l'uomo ok è un hit prendi il tuo mole e lo bonchi nella testa gli farai entrare la testa dentro dentro lo scheletro e a te scoppia ah ok lo spawn tian è morto in seguito tenterò di ma il suo mobbino continui a impostare quello che mi serve per togliere non ho letto ho un action oppure lo riclicco ah ok vabbè lo farò dopo o devi essere colpito mi sembra tenterò di fare una shove action a questo qua vai ho vantaggio athletics è con vantaggio allora uno e due eh lo prendi lo cavolgi e lo usi come chiodo e lo punti proprio nella sabbia colpite lui e poi passo ma sciupa ah riman ah devo costruire la rage questi esseri allora io vorrei usare questo sul spawn of kian non puoi usarlo ok non è morto da meno di un minuto lol ma ma però ha perso la capacità di combatterti non è che è morto non ha un'anima no ma ah ok che vuoi allora posso rispostare il bersaglio? come è? potevo rispostare il bersaglio? di ex con bonus axon ehm sì con bonus axon ta rai ma perché volevi il potere? quale potere? non so mi hai chiesto il potere perchè gli hp degli zombie non li hai ancora scritti sono sotto hp 22 si hanno 22? si 22 chi lo abbiamo chiesto? l'ho chiesto io quando ho fatto il mio marshal ah ok ok ah devi farmi un po' faccio 2 di 6 di danno eh giusto il mobino sta tentando di entrarti dentro mmm chissà da dove 7 necrotic damage ariman è il tuo turno i tuoi occhi si illuminano si di rosso a fuoco questi esseri si è arrabbiato non puoi non puoi togliere l'anima questi esseri che sono appena morti davanti ai tuoi occhi voglio che questo sia il bersaglio dell'ex eh me lo metto ehm ma non ne prende metà? eh non ha la cosa mi sa solo da quelli solo da quelli attacchi fisici basi in pratica io ho una cosa più potente di quella posto bene cosa fai? tutto è al suo posto è al suo posto oh no mi allontano un po' aspetta no ah si 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 ok mi allontana le sue mani inizieranno a evaporare proprio letteralmente fireball che bassa la fireball è stata lanciata oddio ma c'è anche scena che hai messo fireball oh cazzo aspetta voglio dire quale era 20 era? si 20 feet aspetta ehm si così prendi tutti così così è così 20 no diabo tutto procedi così 20 si il tempo è giunto fireball è il livello 4 è il livello 4 quindi devi aggiungere un bob quindi? almeno cazzo dico cazzo dico non è il livello 4 non sei ancora al 7 è il livello 3 è il livello 3? solo Siona che deve rollare i mobetti aspetta meno 1 qual'è tu dici? qual'è tu dici? scusate voglio dire che è una cosa? si sembra 16 la bacca o è 16? ok 16 uso la mia reazione no 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 va bene eh puoi usare anche la tua vai usate che usate eh spirit shield cosa fa? io riduco il danno di 2 di 6 a Sionac ok rollami 2 di 6 allora no vabbè fai la anche tu eh vabbè to non rompimi il cazzo uno niente cos'è? ah rolla ok quindi no rip consumate le vostre robe e allora kidy mob l'ha passato mi sembra quello l'ha passato l'1 il 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 4 si salva e l'1 e il 4 si salva l'1 e il 4 gli altri prenderanno 33 di fire damage 31 o 33? no 31 vabbè indifferente eh 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 si salva si salva vabbè allora esplode ah poi c'è quelli restrained che mi sa che sono effetto restrained con le dexterity eh verifico le actions intanto il 4 è indifferente ma l'1 e il 4 sono morti e basta quelli restrained comunque avevano avuto svantaggio ma l'1 è prone ok quanto è rollato di abbo quel di 6? 6 31 meno 6 quanto fa? 25 25 prenderai 25 di fire damage e una palla di fuoco con le fiamme con le fiamme degli inferi e le fiamme degli inferi colpiranno nella schiena well Dio aspetta prono invece? no prono non fa niente ho controllato eh la fire bullet è stata lanciata ah rimane ancora il tuo turno guarda male ah vabbè non posso ri 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 selezionare un tizio ho già usato al bonus action guarda guardo anche io dai ah eh passo chi sono io qui in mezzo eh? hacken? dimmi dimmi gli altri zombie eh my bad sì ok sì perfetto almeno ehm 15 e 15 giusta osservazione 210 anche io da un po' che non faccio DM eh eh sì 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 infatti ricordate se avete notato robe simile ricordate sì 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 nessun problema vai vai ricordami una cosa per portare via qualcuno bisogna usare tutta l'azione che vuol dire per portare via qualcuno se io voglio spostare lui sì ah sì è un action sì però potrei comunque usare la bonus action eh però no oh eh no sì sì puoi usare la bonus action anche eh ma le bonus action è... sono un idiota aspetta eh c'è un problemino diabo sì potevo evitare che perdevi un quarto di vita eh potevo evitare che perdevi un quarto di vita non so bevi Fury of the Small non potevo finire quell'altro stranso fuck vabbè ma trovo vai Darko sto pensando a come sto guardando perché per muovere la spada e attaccare... anche solo per muoverla dovrei usare la bonus action ma dimmi cosa vuoi fare eh no non posso perché dovrei se io adesso mi passo ah tu con la bonus action puoi dire muovo la spada qua e poi attacchi con la bonus action ok c'è una sensazione si no sto cercando di vedere se riesco a fare una cosa ma no penso che farò un'altra cosa un po' più diciamo sprecona ma va bene lo stesso prego Fireball Lumen ma LOL Lumen ma Empowered Lumen o base ah perché è già impavorata anche senza che cambio? ah no devi cambiare eh quindi dovrei cambiare quindi faccio solo quella base si 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 dovrebbe prendere tutte e due la cos'è? Lumen Fireball si un'altra Fireball ok ok la metà ok ok questo colpirà cioè farà anche danno eh questo colpirà cioè farà anche danno eh comunque è uguale è uguale quindi loro si curano loro si curano e lui non viene curato giusto? si però tipo Sionac e e rimangono con la vita uguale si è uguale è uguale il dano della spele mmm che cazzo di sensore? eeeh per non farvi male con una Fireball io usa tipo Scorching Rage al posto di Fireball Scorching Rage no tu dovresti fare tu dovresti fare così potresti fare potresti lanciare la Fireball ai nemici però il problema è che devi scegliere solo uno se no ok la divide a metà al danno e poi targhetti a mano come dice devi targhettare una 20 feet un'alleata a 20 feet eh solo uno quindi non funziona la tua tattica ah già è vero mmm allora la stavuto per fare qualcosa colpo singolo esatto eeeh no loro erano spreco uno spell slot di livello 3 aspetta questo che non l'avevo stabilito nemmeno io ma almeno non ci avevo pensato tipo spell tipo Scorching Rage tu come lo ruoli cioè come lo fai perché sono tre tre attacche in che senso? cioè che puoi dividere in Italia? eeeh ah da me è possibile così tu dichiari prima l'attacco dove andare eeeh e poi vanno la si quando ti guarda Lumen ah no Lumen tutti tutti è lo spell che è Lumen tutti l'attacco si allora ti comiene fai Scorching Rage se ce l'hai d'acqua e mi sa che non ce l'ha perchè sto guardando ah fuck eh potrei 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 avere dov'è potrei avere potrei fare ah tu hai tu hai ehm adesso guarda se volca no hai ehm Lightning Vault come se colpisce mi sa che non riesci a colpire i due mob eh due no perchè dovrei spost... beh se mi metto in linea da retta si ah capisci anche no non so vai beh ti conviene un tirata secondo me una cosa singola la cosa più forte che hai è Guiding Bolt eh mi sa di sì però non è percorso se procca era quella che rimbalza no? non è quella che procca ah no già che era dell'altra ricompisci il prossimo attacco a vantaggio eh Guiding Bolt ehm lumen 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 ok tiralo tiralo la hit fai la metà del danno quindi al posto di fare 19 farai ehm fack la mia matematica 9 di danno ehm 9 real damage e lo obliteri e curo saianac per 9 HP mmm oddio mi è rimasta la bonus action si bonus action ta ta vantaggio come prima come prima diventi più 8 e uno di 8 per 5 allora diventi più 8 vantaggio pap spade hit e e uno di 8 più 5 si force damage oh my god quasi full damage questo danno questo danno però basta perché la tua spadina la tua spiritual weapon trafiggerà lo zombie e lo smootherà e il combat finisce bene ma notate una cosa adatto potete notare che non non l'avate notato prima ok mhm che dove sono gli altri esatto dove cazzo finiti gli altri sono qua e stanno volando verso la la lastra lol ma che sono fatto scusa gli sono volati sopra la testa e non mi siete accorti volano eravati dopo concentrati dal combattimento e che fanno quelli mmm penso vogliono la lastra e dovremo fermarli e noi non so se mi interessa la lastra mi trovo il cosino addosso no 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 tieni qui mi passa l'anello un anello lo mette al dito mentre si sgonfia passa anche a loro che sono più vicini cos'è 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 sta roba d'arco tu fidati un'altra di tue scherzi io non lo metto ma ha dato un anello a tutti si devo correre verso di loro al momento non lo metto neanche io cos'è cos'è questo questo anello ci servirà se volete sopravvivere spiegami poche parole gli spiega come funziona ok che quando io tocco il mio anello con quel anello che vi ho dato vi posso ci colleghiamo insieme e vi faccio avere più resistenza e prendere meno danni ah come si chiama lo spell ward in bond ward in bond ok adesso che avete finito il combat tolgo l'iniziativa ta e vi sposto lo riprende e le vostre abilità rimaneranno perchè non si cura tempo di c'è passato poco io d'arco si è spostato all'interno del mondo non so perchè no io non ho toccato niente eh dammi a scrivere il web arriverete più o meno qua quando sentirete parlare gli individui in alto verranno questo mmm la lastra prima non c'era lo dobbiamo leggere adesso prima che arrivano stanno arrivando allora tipo si mettono a cercare di cercare di cercare di trovare più informazioni cioè gatterà le più informazioni possibili con blocchetto dopo blocchi blocco no no vabbè stai avvicinando voi potete muovere si intanto però è indifferente perchè la prossima cosa che vi dirà no una lingua mi è sconosciuta no no non c'è tipo quella quell'incantesimo che permette di capire i linguaggi guardo cosa c'è scritto eh no e se ne andranno tristissimi ma siete degli archeologi wow avete riuscito così facilmente a me comunque sembra un gruppo di spigati sì io per cosa abbiamo combattuto gli zombie e loro oh leggo qualcosa scritte antiche adesso vedrò la descrizione pro ok rullatemi dante tutto un un history per vedere se qualcuno conosce questa lingua è di base di depolta l'ha studiata magari io so tutta no uuu darko iiii la conoscenza darko ok mixy e darko voi avete ovviamente avete diciamo studiato questa qui nella lingua antica che si può trovare anche tipo nei libri in alcuni libri la lastra delle anime risplende in attesa di essere risolta da qualcuno all'interno all'interno della lastra vi è scritta una frase la soluzione a volte appare proprio davanti agli occhi di chi è dall'anima pura ma solo se guardi attentamente la potrai vedere se il tuo cuore fosse corrotto allora dovrai sprofondare nell'abisso solo così lei approverà me lo prendo grazie mmm il mio cuore è puro non lo so demonio secondo me tu finisci nell'abisso se provi a fare qualsiasi cosa con questa lastra com'è il cuore di lui ormai? abisso se non si intende l'abisso demonico si in generale quanto è puro il mio personaggio ad appoggiarci l'arma eh non fa niente eh beh io sono sempre stato uno che ama testare ci appoggia la mano anche io non accade nulla anche io mi giro dalla parte non accade niente io ho imparato che è meglio non toccare troppe cose per sepso per sepso bell ah fa un culo eh così aspetta ok ok roll 11 si ok qualcosa ti ispira ti ispira da verso quella direzione no? come se ci fosse qualcosa che hai visto ma non riesci a vedere come se dovessi avvicinarti no? ok intanto girate fatemi un investigation stop 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 e poi ti ho risposto io in casa via ok la lastra c'è tutti a parte belle la lastra espone un codice quello che avete dato è un codice che deve essere risolto e nel momento state cercando di capire qual è questo codice perchè non state capendo bene cosa intende qualcosa accade qualcosa inaspettato la sabbia davanti a te belle inizierà a muoversi però ho creato un'altra cosa ti metto un mini track qua un mini track si una mini track un mini che cambia un C che non c'è musica adesso mi sono accorto ah mini track ok un mini track ok un track con la U ah mini esce un track monster track travolge belle e muore si ma mini però è un mini monster no no quello completo una donna ah giusto ma io ho Tekken c'ho ancora il il proc del empowered o no? no non ce l'hai scade nell'iniziativa ok si bell music uguale win eh la sabbia inizierà a muoversi in sesso circolare dove l'ho messa però ecco orario o antiorario? eh lo scoprirai no 2 duosce 8 ui vabbè una giornata un po' però cominciò prima eh di poterlo qua fammi un texter di segno non scelto c'è una minima forza no? ti ha preso degli piedi o no eh niente lo fallisce finisierai pieno piano all'interno non posso diventare un uccello io non mi accorgete per cosa tutti fa l'umore la sabbia dove va la vostra amica prendi l'accordo che succede le salle con una mano la cosa io penso di potermi trasformare tipo in un serpente o qualcosa che la sabbia se la capacità di trasformarti volatile funzionerebbe qualcosa che si trasforma in qualcosa che sta su per la sabbia devi dovrai rinrollare un semitro perché si dovrei comunque rifare sementro ok comunque fanno in mano la sua coda tentando di legame non è mai io posso e mi butto verso bell ok mixi athletic check gruppo in più leggete la corda di e ricordi ok poi corinna dovrei fare un dexter di centro e non so se bel vuole fare delle azioni tipo sui trasformarti qualcosa è che non so se dopo che se prendermi se mi trasformo decido adesso adesso vado di decidere il suo posto saltare indietro non penso che non non so nuotare nella sabbia no no questa sabbia è stranamente potente aspetta è proprio un whirlpool di sabbia forte quanto quello del mare forse anche di più ok ok per questo per questo anche cordi inizierà a sprofondare è pieno piano tutti quanti inizierà inizierete a a spostarvi non basta la vostra foto del legge le siete a andare lasciate la cosa no aiutico qual era quella che dava più nessuno di voi sa volare o qualcosa e dovetti quando serve allora se volete lasciare la corda sul momento perché barcato questa soglia anche vostri piedi inizieranno a affondare in questa specie di sabbia mobile vorticosa ok altra idea se uso su monfei per non è credibile carcar gli armi via solo uno potrebbe creare però una volta questo cosa facciamo in tempo questa cosa sta cadendo molto veloce niente è come se immagina un botto di fit sotto forse si fosse aperto un buco no e la sabbia stanno girando vorticosamente come come ha detto detto come un whirlpool non saprebbe a non sapresti a castare la spelle il mobino prenderti portarti al safe ritornare e prendere anche a accordi ma è ancora legato solo con un giusto è ancora legato si e allora lo faccio non fei sa monfei e non ho pronto una fei per te e non mi sono un'idea soli ole per ok il mi fa supportare la pd grabo e piano piano ti porto la piccola ben freddo a 3 deve decidere la foto è un'altra cosa facciamo a tirarlo via trascinarlo fuori La vostra forza non è abbastanza sufficiente La forza di Whirlpool è molto più elevata Molto più elevata Ma io non avevo Avevo notare il contrario con tutta la mia forza Dovrei leggere questa cosa in effetti Che fate voi? Si va a tirare Questo cosa facevo? Oddio, non ho niente Aspetta Corradin, forse accenda il cervello Dove il testo? Dove... Oh... Ho capito È il vortice Si è un... Cosa? Il mio cuore è puro Ti curo Lasciate, non c'è tanto tempo per parlare Lascio Appena uno lascia La corda inizia a schizzare tra le vostre mani Va bene, mollo Mi metto Tipo le braccia Del petto Tipo Ha capito, ha capito Questo è lo scivolo Addio E scomporerà Nel vortice Sentite il rumore della sabbia Che inizia a frusciare Vabbè E dopo Qualche secondo Si sentirà un tremore A provenire dal terreno E un momento Perché devo cambiare song LOL Dove è il mio documentino? La song? Ok Sembrava convinto Stop Ben per lui Play Loop Sì È tempo Ok Grazie Bene Dopo un po' Che questo premore È presente In questa Dentro la montagna La torre inizierà a uscire Dal vortice di sabbia Insieme A Corradin Mi metterò Su una parete Mi metterò Tipo Braccia sui fianchi E sorriderò Davanti a loro Non del sole Aspetta C'è la bandierina In cima Alla torre Ma quello è il track Prima vedrete La sua La sua saga Uscire Della sua testa E poi la struttura E poi la struttura Roll Minut Athletics Intanto Per cercare di metterti in una zona sicura Mentre appunto Il vortice si è leggermente fermato Di sotto Sotto la torre Ok È il tuo momento Per metterti in sicurezza Atleti Check Bene È nel mentre Visto che la torre Continuerà ad uscire Adesso Immagino Diabo Immagino La scena Mentre la torre Inuncerà ad uscire Insieme Insieme A una foschina rossa Le assi in costante movimento Ehm Aspettate Ok Le assi in costante movimento Orari o anti-orari Continuano a salire Sempre di più Sempre di più E sempre di più È il tuo momento Per spostarti Diabo Ah sì Abbiamo fatto il roll E E camminò fiero Verso di loro E le assi Continueranno A salire Ancora 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 Fino A toccare il soffitto Di questa montagna Quando la parte superiore Della torre Inizierà a diventare Eteria La torre Continuerà a salire Ancora E altri assi Ussiranno Dalla sabbia E se le avrà Ancora Fino a che non si Fermerà E Quando usciranno Altre Di queste Strutture Che sono Sopra Il terreno Non sono a livello Del terreno Sono Alcune di queste assi Iniziano a uscire Capito? E iniziare a vorticare Come se tipo Non ci fosse Una sorta di regola Di gravità No? Come se fosse Qualcosa di Totalmente Weird Che non avete mai visto Vabbè Tipo cancelli Dell'oblivion Fino a che la torre Come dicevo Prima Non verrà Completata E si Fermerà Con un grande Suono Assordante Anche le Asse Superiori Come degli Ingranaggi Si bloccheranno Ed una figura Misteriosa Si Marietalizzerà Davanti a voi Ah Aspetta Boom Un po' di Top Ah Ok adesso Vi mostro Chi mi spona Davanti E Dovete decidere Se continuare A stendere Fino A luna Oppure no Oppure continuare Domani Per me va bene Fino a luna E anche per me Va bene Tanto è sabato Va bene Quindi Manca Faso Faso Va bene Va bene Anche Che Vabbè Dai Ok Vi raggruppo Un po' Magari Magari Vi inclusisce Il fatto Che stai Materializzando Qualcosa E' andato a vedere Che cosa sta succedendo Ma io sto ancora volando Ok ok Stai volando Però Magari Ti sei avvicinato Al punto Che stai Materializzando Il Questo Essere Si metterà qua davanti Una 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 specie di Colori Viola E blue Inizieranno a Confluire A un unico punto Le parti del suo corpo Inizieranno a Mostrarci E lui ci mostrerà A voi One moment please Che devo fare la voce A sto tizio Ok Bell music Si sento Si Se Non sentite qualche pezzo Ci intrompe la voce Ditelo subito Ok L'essere Si forgerà a voi E inizierà a parlarvi Io Sono Rahab Io Sormiglio La torre Da secoli Presentate I vostri nomi Al cospetto Della grande Torre Delle Ande Conrad Peacekeeper Io sono Sion Darko Io sono Ivo Bell Ariman Ti guarderai Mentre esponete I vostri nomi Soprattutto a te Ti guarderai Non so Perché stai volando O per qualche altro motivo E io sono Mixi Mi senti là Tipo Come segno Standard Di pace Aspetta Tecni Dimmi Non so se può Centrare Ti mando un messaggio Beh Continuo fare Questa scena Ah C'entra Non posso dire Tu lo vedo Beh effettivamente Non puoi dire No Le stile Ci sono Allineate Il giorno di un giudizio E figlio Rad Hai qualcosa di familiare Rad vi scruterà dentro l'anima Guardandovi negli occhi Uno per uno Uno per uno La tela del fato E' ancora intatta Ma per quanto ancora lo sarà Voi non siete ancora pronti Né lo è il mondo Né lo diverso Cosa sei tu? Io Cioè Guardiano Di questa torre La torre Mi ha scelto No Più specificatamente Cosa sei Non cosa fai Io Mi mostro Il passaggio Mi mostro La strada Che mi indica E ci indica La torre Di proseguire Pochi sono stati Prescelti Che hanno potuto Ammirare Le grandi torre Tesori Senza uguali Di solo Per chi riuscirà Ad arrivare in cima Ed in caso Fagliate Un giorno Potrete sempre Riprovare Mmm Se la torre Vi sceglierà Mmm Ancora Hai Hai detto Che il giorno Del giudizio È vicino Tu sai niente Della Della luce bianca E del cielo Ci girerà Dall'autoporto Senza proferire Parola Inizierà A incamminarsi La porta Si aprirà Ci aprirà In barco Ci aprirà Nella torre Ed allora I coraggiosi Entrano Ed i deboli Scappino Seguitemi Io sono La vostra guida Persona Non coraggioso Allora Entrata all'interno Della torre Che è come se fosse Una specie di tunnel Completamente nero Ma è illuminato Da qualcosa Che nemmeno sapete Che cos'è Però è una torre Che è un passaggio Oscuro Ma illuminato Molto strano Da vedere E da sentire Come se fosse Una strana sensazione In ognuno di voi Rad vi parlerà Ancora Mentre siete In questo tunnel State vicino O la vostra anima Potrebbe perdersi Per sempre Eh queste parole Mixi È un attimo Di situazione Gli state vicino Eh Sì Pensa Pensa a tutto quello Che sta succedendo Alla roba del cappuccio Eccetera Ma poi Da sola Non può fare niente Quindi Tekken Si unisce agli altri Dimmi Mentre stai avvicinando Non C'è un roll Che posso fare Per capire Che cos'è lui No Non puoi farlo Non Non c'è modo Di fare questo roll Ok Però Ariman Può farmi un roll Ariman Tu che sei A fine con le anime Diciamo Ok Puoi rollarmi Un Che potrebbe essere Un buon Roll Per sta roba Di cercare Un insight Un insight Eh oddio Nice Niente Tipo sei troppo Sei troppo confuso È tutto normale È tutto ok E' niente Quindi Interrete Nella torre Finalmente È il momento Di cambiare mappa Oddio Che sia quella mappa Che sia quella mappa Sì Quella mappa Ma cazzo Io aspettavo Quanto è averla fatta Io la mappa Player visible Player visible Che cosa Ok fatemi organizzare Un attimo Ok Ok Fatemi organizzare un attimo Ok Ok Ma hai dato Vi spuno Si è quella È anche più piccola Mi ha spunato Stai caricando Stai caricando Stai caricando Stai caricando Stai caricando Stai caricando Dovrebbe Eh adesso Più o meno Stai caricando Non me la carica Velocemente Vabbè perché Non sono stato Del tuo serve Oh caricata Caricata Sì L'ho fatta io Ok All'interno del tunnel Vedrete una Una luce Che tipo si sta Come se fosse una porta Che si apre Si sta aprendo Dalla fine del tunnel C'è una luce Ed è questa porta Che si aprirà E un attimo Che vi sposto C'è una porta Adesso Adesso Tipo La spura Perché sto spostando tutto Ecco la porta Una porticina Vabbè Uscirete Dalla porta Immagino Suppongo di sì Volete stare dentro Tunnel No Ok Allora Se siete qua La porta Scomparirà Alle vostre spalle Fatemela Toglio Di mezzo Perché Stiri un botto Ok Bene Questa è chiaramente Un'arena L'arena 1 Vi guardate Tipo È un'arena gigantesca Vi guardate intorno E ci sono Come delle sagome In cima In alto In alto Come queste figure Che sono un po' Oscurate Che piano piano Inizieranno a scendere Visto che ora La torre si è Fermata Alcune di queste assi Ancora Si stanno Stanno Muovendo Quindi Sono tutte Covertendo Bloccate Questi individui Scenderanno Dalla fossile Rossa E si renderanno Visibili Adesso Adesso ve li mostro Ma uno di questi Non so se li vedete No Dove In alto Però Sì La sua Ah In basso Che sederanno Come se fossero Degli spalti In questa zona Di punto Di questa asse Che sederanno In quel punto Per osservarvi Ma un'altra Che cura Vi Vi Prende La vostra Attenzione Non si mostra E da questo punto Qua Lo vedete Il punto Che sto indicando Sì Salterà E si schianterà Al centro Dell'arena E si mostra A voi Com'è Il vostro Primo Encounter C'è il primo Encounter Tipo di Pronto Eccolo qui Eccolo qui E lui Un essere Gigantesco Da qualche motivo Sembra umano Ma è stranamente Esponenzialmente Grosso Rispetto alle forme Normali Che avete In cui siete Abituati No Già È un'ultima figura Si presenterà Nell'arena Ma lascerò a voi A vedere Dov'è Perché è la figura Misteriosa Oh lei Oddio L'hai fatto apposta Che non si vede Il cazzo Non posso puntarla Vero Puoi puntarla In teoria Non dovrebbe Si sfoida Se ne so Se si recapita Si può vedere Se vi osserverà Mi scluderà dall'alto Ah il punto di domanda Ponte domanda Ponte domanda Questo combat Se lo volete Se siete ready Ma prima di so Prima di so Mentre tipo Siete usciti da questa porta A questo tunnel Rad Continuerà ad andare avanti Come se ci fosse una strada Davanti Ma voi non la vedete E nel mentre Rad va avanti Camminare avanti Inizierà a dissiparsi Fino a scomparire Come se fosse andato In un altro piano Eterio O qualcosa del genere Alve? Appena Ci rialzerà appunto Dalla sua Hero landing Io voglio fare Prima una cosa Prima vorrei fare una cosa Mi è finita la penna No adesso c'è la parte Tipo Di roba quando Ah in questi fight Già specifico subito Potete prebaffarvi Quanto cazzo vi pare Ok? A meno che non richieda Tipo 10 minuti farlo Potete lanciare Molteplici spell Fare quello che vi pare Mentre bless Seed of fate Quello Pozione Pozione Boom 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 Potete staccarvi Quanto vi pare La durata Se la facciamo Vai buff Ah prebuff tipo E' come se E' come se l'avesse attivato Un attimo prima Dello start Quindi durò Dieci round C'è durò un minuto Quindi full durata E' così Un prebuff tipo Aind No? Così Adesso Di mettere Aind Qualcuno Eh si Ma noi C'è Per noi E' chiaro Che stiamo Per combattere E' chiarissimo E' chiaro Come il sole Però aspetta Ripart Questa è un'arena Partiamo con quello Che abbiamo Già adesso Con gli spell Non so Perché stiamo Combattendo Devo fare Devo fare Un attimo Un'introduzione Di questo Encanto Ogni boss Sarà Un'introduzione Poi dopo Ci sarà Una Una Un Farvi Prebuffare Un po' di roba Manuale Sì E poi Vedrete Non ci saranno Longest nel mezzo Veo Lo dirò Tra un attimo Devo trovare Prima il documento Eh Eccoci qua Bene Fatemi Un history check Tutti quanti Questo è un history Group check Ovvero La totale Somma Di vostri roll Veva messa insieme Beh Ottimo E tutto No Meglio Ogli uno Qui Che nel combattimento Sì Sono il terzo In roll Con quattro Fatto Mi sa Ehm Da 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 E fuori Non merda No 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 Non è sufficiente Sì forse Non è sufficiente Per un cazzo Grazie Allora Berto Mi sembra Che stiamo per fare FA Oh no Oh no Morgan si avvicinerà Scorbide l'arena Di abbo Di un preferito Oh no Morgan si avvicinerà A lui Camminando Ehm Guarda dopo l'altro Non si avvicinerà Sì forse Alla in giro Nel mentre si avvicinerà Al suo size Diminurà E ridiminurà E ridiminurà E ridiminurà Sì A diventare medium Questa è la taglia Giusto Per un combattimento Come questo Quindi si è un mutuo Mi offre Questi oggetti Per potermi combattere E parerà tipo Un tavolo qua Ci saranno degli oggetti Ci saranno Quattro superior potion Ci saranno Ci sarà Un'armatura Medium Di quella Cappata Quella che c'è via te Di abbo in pratica Ci sarà Un maul Più uno E ci sarà Che altro L'ho messo A disposizione Fammi la legge Un attimo No che scusate Ma era Una superior Potion E due Normali Greeter Ok Segnatelo I nostri inventari Ma per tutti Sono quattro Sono totali Sono totali Sono una superior E due Greeter Dividetevele Decidete chi le ha Guarda gli altri Se non mi dispiace Poi il grande Mattello E quella Amatura A me non servono Morgan Si prenderà Una pozione Che è per lui Ma Quindi abbiamo una superior E due griter Sì A disposizione Più quello che avete Di belle città Chi dà In pratica Sì Chi se la prende Qualcuno che non può curare Attenzione però Perché guardando Vosti inventari È successo qualcosa Oh no No I vostri corpi Non sono Come dire Normali Stando in questa tour I vostri inventari Tutti i consumabili Che avevate prima Non esistono più No Comprese le mie frecce Ogni tipo di consumabile Non sono più disponibili Quindi le immagini Funcionano O aggetti marci Tipo L'avete compreso No Non certo Tipo Cerrate superior Supreme Pozioni Non ci sono Funciono Quindi le 5 Le posso cancellare O le commento No no Adesso Ce li hai Ma Non sono Non sono utilizzabili Come se non ci fossero E come se le fossero spente E non fossero utilizzabili No Domanda Potete usare Solo gli item Che vi Darà la torre Per combattere Item consumabili Ah ok Ok Quindi l'anero Non è un consumabile Quindi ci abbiamo La cosa? Le armi Le armature Tutto il resto Tipo Tipo Non sono consumabili Quindi potete usarle E allora Boh Mi prenderei Prendendo l'arma Precce gialle Non si possono usare Che sono consumabili Fuck Una pozione Normale Per darla a qualcuno Greeter Non è normale Vieni mi prendo una Greeter Allora Se non vi decidete Rollerò a random Greeter Pozioni Io ne ho presa una Adesso ne sono Chi prende la superior E rimane una da prendere Una superior Due Greeter Una Greeter L'ho presa L'ultima che resta Cos'è rimasto? Non lo so Allo superio Allo superio Ok non lo scrivi Ma tu hai modi per curare Si E la persona non è caso Mi prendo la Mi prendo la superio Puoi votare il tuo Il datofei Che inizia a svanire Adesso è la certa Punti a dire Adesso può notare Che inizio C'è piano piano Che fate State facendo queste azioni La che inizia 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 Sempre più trasparente Sempre più trasparente La che non Scomparirà Mi prenderà la superio L'imposcio Ok Quindi Bell all'altra Greeter Ragazzi Usate la spell Devo usare la spell Per regastarla Adesso vi dirò tutto Aspettate Quindi Bell all'altra Greeter E Conran Conran Vabbè Con Alla superio Avete Vi siete dato a tutti Aspetta perché forse abbiamo Due superior What? Bell Bell Cosa hai preso te? Non ho scritto niente Perché non ci state dicendo cose Aspetta Non ne hanno tre Greeter? Allora Uno superior Due Greeter Ok Ah capito Quindi chi la pena Le due Greeter L'avete preso a te E te Esatto Te vuole i pennati a superior? Beh non cambia niente È che se vedo che nessuno La prende Io la prendo Ah La prendo io Sì perché Lei può curare In altri modi Comunque La vanno io Sì prenderla tu Siete pronti? Sì Posso rollare un po' di cose perché non mi ricordo che fanno Così Però Allora Sì sì Intanto Lo dirò quello che accade Nel mentre Morgan Morgan Tipo agiterà il braccio Sopra il tavolo Che Si rinfugnerà dentro il terreno Come se si immergiasse Come se tipo diventasse uno specchio E Entrasse dentro Questo tavolo Che lo vedete Che sta entrando E poi La superficie Ridimenterà totalmente nera E opaca Ma non mi avessi dovuto rollare qualcosa Per me Riguardo? Riguardo quella questione che faccio Che abbiamo fatto l'altra volta Riguardo ai Potevo usare i DTR Troppo tardi Non c'eri poi Quindi Il senso non c'era Avresti avuto Comunque Come ho detto Questi oggetti qua Non avrai in questo one shot L'ho detto Non serviva Capito Per questo one shot Capi Quegli oggetti servivano Per Per il tuo personaggio Come Wealth Magari avresti avuto oggetti Per un valore di mille gold Ma che cazzo ci siamo Adesso Si Capi Che poi se ci siamo consumabili Non li puoi usare Come ti ho detto Morgan Bene Vedo che vi siete Affaticati Agitare il braccio E la torre Vi conferirà Un long rest Well F*** Ok Vi gioco la risposta Si A ogni Encounter Ci sarà un long rest Nice Bene quindi Verò lo io Ho Cioè faccio io Ho long rest Per tutti Nei sono tutti Prima Long rest For everyone Da Controllo Messere qual'è il suo nome? Il mio nome è Morgan Molto piacere Coradin Rollatemi di nuovo L'history check Vedete il suo nome Con vantaggio Perché Lo sappiamo No Siamo Il miglior E' chiaramente migliore E' chiaramente migliore Bene Avete Avete 1 2 3 4 5 6 C'è Madonna Bell Con i cosi blu Che mi confonde Ok Allora Siete Siamo 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 Tu 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 Etting Ecco i libri Morgan Era un eroe errante Del passato Di Aizaron Molto passato Ed è colui Che ha inventato Il modo di fare Del pollice in su Per dire ok Cosa? Allora gli fa un pollice in su Risponderà con un pollice in su Oh madonna è così vecchio Bene Tutto qui Stop to grid Yes E voi prebappate Ok Il mio è la parte più lunga Poi avete tipo Una trentina di fit Di movimento Per riposizionarvi Per la formazione Fermi Non vi allontanate adesso Allora fate fare prima me così Se no non vi prendo se vi allontanate Ok Allora Il cannone Aide cosa faceva? Che lo attivo Da capi in più Mi attivo Rororing rapids Se lo fai di livello 2 Lo dà 5 HP A 3 persone Se lo fai livello 3 Inizia essere costosino Per il nostro livello No al 3 non mi conviene consumarli così A 3 persone 5 HP massi Mentre decidete vi baffate Magari diabo Forse Tipo i baffini Mettiti da solo adesso Con un attimo Il bain Sì Non ho baffini da mettami Dove Posso debbaffare lui Vero? Aide Posso Devo darlo a una persona Giusto? A3 A3 Aide Aide Non saprei adesso Non ho visto Non stavo guardando E alla pazzamaria la posso usare sul combatto Adesso si Se no Oh Adesso si Inizio a consumare Livello 2 Poi Sì come diceva E se lo casti È come se lo castassi Appena inizia il combat Esatto Io poi avevo un'altra cosa Da fare Che era Dai volevo farla Quando c'era anche Tekken La faccio dopo Beh il mio personaggio Si gira Verso Chiami il big jump Cos'è il big jump? Sto scrutando Quanti meme Sto scrutando Tekken Dimmi Kenneth Bolt E Lume Vuoi usare un guide ball Su Mixi? Si Lume però Dai attacca L'acqua Lo hiti Fai 13 danno No fai 13 in metà Fai 6 di danno Chi devi curare? Sono tutti E lo curro di 6 Che vabbè Quindi Ha fatto 6 danno a Mixi E ha curato la Mixi di 6 Ma perché? Ah per baffarsi È per baffarsi È per baffarsi È giusto 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 Fidati E adesso Darko Darko S'ha il fatto suo Ieri Astusiato Ascolta Posso fare cose tipo Pre-raggiare Due a due dieci Round Pre-raise non si può fare Perché tipo Scade Se non attacchi Ricordo Giusto E tre La sua online Quanto hai capito di una lineata? 5 Ci sono segnati già io Io no Gli altri non lo so No Per il disegno io 74 E io ho usato la bassa marea 55 Bong Avete fatto 4? Io no Devo fare ancora una cosa Prendo il suo braccio dove c'è l'anello Io lo tiro su E lo porto vicino al mio e lo tocco Formando una sottospecie di fiamma Come quella dei capelli E attivo Questa se non erro Giusto Il collegamento è stato fatto Mi sento collegato Al menu Andrò a segnare Marked Evil Eye Marked Evil Eye Posto Qualcos'altro? Sto pensando Dovrebbe essere a posto così Perché poi tanto Per passare alla Oddio No Si è messo quindi alta marea Io ho fatto questo Ok alta marea Che cosa facevi? No La prima marea Quella Abbassa marea è attivato? Si Vuoi dire Consumi una stacca Avete una stacca? Si Parate con 2 Ok 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 Posso una stacca marea Perché l'anello maturo d'acqua Che viene il tuo corpo Quando l'anello maturo d'acqua L'anello maturo rimane sul tuo corpo Per un minuto E poi cade diventato Ok hai capito Beh Poi passo in tenebris Ok Qualcun altro vuole attivare Prebuffare qualcosa? Beh io non mi pare che ho le maffa Diventa tutto neo È strano Signori è come Mi sento come se fossi Ho messo roaring rapids Ok Big Mi sento come se Fossi diventato immune A una certa spell di nodo livello Poi dicevi il movimento Non so se possiamo farlo Ah si movimento Giusto Ma come movimento In te neanche hide Nascondo No hide no Ok Per dire tipo Chi sta davanti Chi sta dietro Ok ok Uiii Separiamoci Aspetta Io non ho finito Ho country appattivi No Vabbè Shield of fate Lol Tu di che? Tu hai messo l'AC dell'armatura? Si sono 15 E' l'AC dell'warding bond? No non ho messo l'AC dell'warding bond Aspetta fammi dire Medium armor In che buff A 15 Sicuro che da 15 Unispeed extenti Ah perchè tu c'hai 0 Si Ok Devo mettermi più 1 Dal warding bond Devo me lo scrivere Aspetta Ok Li metti 18 È semplice Shield of fate 2 Warding bond Shield of fate Mi metto 18 in AC Non te la metto come buff Vi consiglio Di allontanare il massimo 60 feed da me Non di più Ok Sento spesso Li hai messo i due d'AC Del shield of fate Si Sono 18 si Bene Perfetto Qualcun altro deve fare qualcosa? Sto per iniziare Movimentino Quanto sei andato? Quanto sei andato? 45 perfetto Basta Era 60 questa no? E' un po' distante Quanto era di distanza questa? Ed ecco sempre un super siam 4 Nero Si 60 Mega buffe Vato? Questa versione è molto più forte Siete pronti? E vuoi stay in front line? Si No dico qua Allora d'acqua Si Ho più AC di te Cosa vuoi? Bene Direi che siete pronti Allora il combat vuoi iniziare Roll Initiative In totale avrei 110 HP Sding Sding Merda Anche contro questo nemico Potete Cliccarlo e fare Show and out Senza spostarmelo Please Ti consiglio Diablo di non Avete stappato? Si si Eh però Cosa? Eh perché Sai cosa faceva no? Il mio attacco Si ti danno anche a te E per che altro tu prendi blind Lì Sanguinamento Sanguinamento Se io gli faccio l'attacco Quello è un powerato Perché io Non prendo niente Non prendo niente Scusa Se quando Se io gli faccio Faccio questa Eh Il 4 di 4 Ah capito Dei non stare troppo vicino Eh Fa una way Che colpisce pure te Diablo Ma non fa la Ma intorno al target Puntando a lui O può puntare la posizione? Ah Non può puntare Funziona così Lui prende la fireball E al centro la fireball Appare la sfera Eh che faccio Perdo danno Eh poi Ti danno a sanguinare Dovresti curarti È un casino Eh Sì ma Vedete voi Queste cose Se io adesso attacco Il primo round Io gli do svantaggio Su tutti voi Eccoci qua Potresti attaccare E poi spostarti Però poi Lui si avvicina Perché è il suo turno Dopo Prendo Sì ma il problema È che Non consideri Una cosa Che lui potrebbe adesso Spostarsi Verso di voi Al suo round Quindi non so Se conviene molto Partire con Tenebris Cioè anche se io Anche se non gli vado addosso Lui può spostarsi su di noi Quello sicuro Ecco è un boss Io Quasi Quasi Mmm Mmm Per Conradin Eh Bene siamo pronti Più o meno Sì Corradin Ci sono tanti Prima di fare Marshal Se vuoi identificarli Beh no Faccio il Marshal Marshal Ma non vedo come Questo nemico ha questi tratti Ci sono nuovi tratti Adaptive Rootless Questa creatura può attaccare I Characters Più il combattimento Sembrerà difficile Secondo questo nemico Più cercherà di eliminare I Characters Meno il combattimento Sembrerà difficile Meno cercherà di infliggere Il colpo di grazia I Characters Secondo tratto Quickened Cunning Più veloci sono i turni Di players Più è probabile Che questo nemico Faccia degli errori Meno veloci Sono i turni Di players Più è probabile Che questo nemico Faccia mosse Deadly Sentai tipo Intelligentemente Deadly Si Dai attacco Gli vado addosso Vai Si Mi troverò un modo Mi vado a carico Vi devo dare ancora Le abilità No Un'abilità Ah questa abilità E poi Vi è arrivata Un'altra cosa Molto interessante Di questo nemico Che ha due iniziative Oh no Eh beh Però è buona Se riesco a fargli quella roba Non prima di me Perché non me l'hai detto prima Così lo scrivi Perché L'iniziativa si scopre Quando Rolli il massec Non prima Oh Quando lui la fusa Questo deve essere Per forza sotto La prima iniziativa Si chiama Homecoming Homecoming Come a casa mamma Homecoming Homecoming Col pollice in su Si ma un po' Overload La seconda Si chiama Overload Non l'ho mostro Però che cosa Aspetta ma Overlord Overload 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 Roliamo l'iniziativa Anche per lui Rollin'initiative Ding Ha fatto più di me Allora No Sarà sempre sotto Homecoming Quindi Allora D'un'iniziativa Vicina Porca puzza Oh merda New rule Ah È bad Già Move Up Fuck Era più bad Se ti stava sopra E ti perdevi Il twin Move up Move up Così è molto Bad Move up Ci siamo Ok Vai il coso Il Marshall Cioè Devo Ok Ora vi dirò Le sue abilità Aspetta che tolgo Quell'altro Ding Ok Abilità di questo Di questo Enemy Crossbow shot Evasive shot Lightning shot Ah Cioè È vero Carano Engine Eh Quindi sarà lontano Barrage of lightning bolts Barrage of lightning bolts Sparking bolts Guiding of bolts Grazie 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 Crossbow shot Ah Fai bacca Avive shot Lightning shot No Stai dicendo Occhio Badge Eh No niente C'è C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho Beh il diablo Può andare lì vicino Barrage Barrage Oh Lai No Ho inteso che non c'è problema Non si avvicinerà a noi Sì Bingo Dunque C'è qualcosa che chiederò Sua resistenza e vulnerabilità Sì Cosa chiedi quindi? Resistenza e vulnerabilità Resistenza e vulnerabilità Perfetto Condition immunities Charmed paralyzed Ok Condition resistance Poisoned prone Damaged immunities Poison Fire Necrotic Damaged resistance Non magical Basta Damaged vulnerabilità Cold Freddo Carino Parliamo tu Non c'è un ti spiace Eh Passino delle resistenze Poi Perché era un flash Eh sì Ho sentito immunità al fuoco Immunità al fire Damage Non il mio Dimmi quando posso Poi poi Vai Bonus action rage Reckless attack Attacco Cordin È incazzotissimo La giustizia Deve essere Giustizia deve essere fatta No Non mi piace Che sia un miss Ed è un double miss C'è da solo Vantaggio missato Vantaggio missato Procco ma non serve a niente Ed è un hit Perfetto È un bludgeoning Hai messo più uno Sì hai messo più uno È un bludgeoning Magical damage Quindi worka Ok Farai 12 di danno Passo È il turno di Morgan By the way Ok Sì 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 Ok Ok Morgan Usa la Evative Shot Si capisce Questo considera Un disengage Questo è un disengage Eh O sentine Ok 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 Puoi attaccare Ok Torno la cosa Perché non mi godo Unifase 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 Ok No 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 guarda Il turno è finito Sì Un hit Ed è un hit Spirit zero Spirit zero Vabbè ma si sposta di 5 o no? No Sì Perché l'attacco di opportunità è dopo che si è spostato Ah è vero? Prima Ok Sì esatto Finque si sposta Sì E che attaccherà Gli basta così poco Eh facciamo cliccare perché speriamo che Vittorino dovrebbe vedersi Attaccherà a te Ok Uh Ti farà 29 di damage Metà Metà perché hai I bonus Dove prenderlo Quindi è 14 Ah sì giusto Liria non fa già metà Cioè adesso faccio tutto Faccio tutto Boom E poi Cosa scusa? Liria non gli fa prendere metà danno a Conorlin Eh Infatti ha preso metà se no era 29 Ah ok 14 danno 14 danno Ok 14 danno a te E 14 danno a Darko Yes Hai detto Qua hai dato 14 a Morgan Non li hai tolti a me Non bongo Eh Sì Sì E' 14 Morgan 12 Devo togliere Bing A te lo tolati diabo vero? Sì me li tolati Devi tolglierli Eh a Darko devo togliere 14 Yes Boom Darko Certo è che sui nemmeno è molto conveniente Il contesto Corte tu son se mi tro Dio Per il contesto Per caso Era un Eh Ehm Fammi un attimo controllare No Dovrebbe essere passato Sì era un Bolt Darko togli mi a me il Warding Boy Mettila qua con un altro Perché? Perché io ho Rage O sono già resistente al piercing damage Passato Eh ma è un casino adesso Ah questo è considerabile un danno piercing magico Giusto per essere Cioè funziona lo stesso il tuo Rage in teoria Oppure c'è scritto che è piercing O deve essere specificato non magical piercing eccetera eccetera Dove cazzo è il mio Rage? Non so dove cliccarlo Questa costruirà comunque magical damage Capito? E in teoria Rage non specifica che non funziona con le robe magiche Quindi dovrebbe comunque essere metà da No cioè non c'è specificato è sia magico che non magico Sì non dovrebbe essere specificato che ricordi Quindi serve che gli tengo l'anello giusto? Non serve Eh però cambiarlo mi ha fatto così via l'azione Credo Ok Morgan non l'ha finito Ok 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 20 feet Preparatevi Tutti qui in realtà tutti quest'area mi facciano un dexterity semitro Dexterity La scarica di fulmini scenderà dal cielo mentre Morgan alzerà un braccio in aria Reaction? Tutti qui all'interno prenderanno che hanno fallito prenderanno un Adesso vi dico che fallito Un Set di 6 lightning damage Madonna Ok chi ha Allora Darko Passa Aspetta no Darko fallito Sionac Passato Ariman Fallito Manca uno Bella Bella Ecco bello perché c'è il colore diverso Fallito Adesso metto blu e nero L'ha passato L'ha passato solo Sionac Prenderai half damage Vuoi usare qualcosa? Se puoi usare qualcosa? Tutti gli altri prenderanno 21 di lightning damage Non ho resistenze su quello perché è magico Giusto Hai resistenza alla magia? No io sono vulnerabile Con l'anello solo gli attacchi fisici giusto? Ah io? Sì vulnerabile E lightning? Sì Sono morto 41 damage 42 Siete un attimo fammi vedere se ho qualcosa 42 damage Ehi Humberto Ti ricordi quando Te che ti ho detto Ehi Dammi tempo il persaggio Così vedo di non mettere cose che ti one shotano Te lo ricordi? Tarangi Io ho avvisato Io ho avvisato Te lo ricordi? Ah Darko Prenderai Allora perché Darko Sei con 41 HP Perché già no Oddio 41 Ah sì perché ti ha finito il danno con Il 14 di anno Sì Prenderai 21 di damage Sì Bell Prenderai 42 di damage Vuoi vedere che veramente hanno un one shot questo qua? Vuoi vedere che veramente è un one shot questo? Seconda iniziativa Morgan Gli attacca la te Conradin Ah lol Ti attaccherà con la sua balestra magica Continua la sua Io Gesù Resulti Gesù Vabbè resistenza Intanto Darko Devi rollarmi Costituzione Due volte Sì Ti ho messo due volte Quindi Darko Continua di rollarmi Due costituzione Sinitro Innanzitutto Uno Ahia È già andato giù Corradin Prendi Quanto prendi? 9 più 8 17 17 Diviso 2 Fa 8 8 8 damage E 8 damage Questi sono fallito E lo uccido Fate droppa Sì Cosa mi tolto 1 DC No 2 DC 2 2 Vedi che dovevo prendere la euro pozione Lol Morgan Usa un'azione speciale magica Ecco Il suo palmo Di Sparerà dei dardini Illuminati Dalla sua hand crossbow È tutto lighting Hanno qualcosa Qualcosa di Strano Tipo benedizione Ok E non mancherà nel colpo Oh no Ah Adesso c'è Quell'attacco Magic missile Ah Un D4 Più 1 Sembra Magic missile Oh merata Spara due tardi Mi bello Spara tre Prenderai 5 Hai resistenza Sì Quindi 5 2 E prenderai 2 Dark damage Sì Dio dark Curati Sì Non ti preoccupare Curatevi Ce le ho le cure Devo solo vedere la cosa C'era di fit 15 Oh dove è andato Sì Va qua Perché c'ha Il momento Gli è tornato Eh Viva È il tuo turno Madonna Vi consiglio Che se avete vantaggio Svantaggio Di usarli Queste cose Perché se fallite Che cosa vogliamo sapere Ah Bella domanda Boh Dei saving throw Oppure vogliamo Buttarci subito Su una roba a caso Dobbiamo capire L'abilità Sì Allora Secondo me Barrage È quello che ha Tredato in aria L'ha fatto prima Sì Evasive Se ne va Guiding of bolts Secondo me Potrebbe essere Tipo il dart Incantato Crossbow Spara tre colpi A questo punto Lighting shot Secondo me È un colpone E sparking bolt È un punto di domanda Facciamo sparking bolt Allora Sparking bolt Sparking bolt Bella ricorda che puoi prendermi la pozione Piola comunque Sparking bolt È stato selezionato Yes Eh ve lo tolgo dal mio cosa qua E ve lo lancio Dovrei riuscire a curarvi un po' Adesso Sappiamo Sparking bolt Eccolo qua Come diceva Axel Morgan può selezionare Fino a tre creature In un range di 400 feet Una linea di fulmino Di 5 feet Verrà lanciata Verso ogni creatura Selezionata Partendo da Morgan Chiunque sia All'interno della linea Compresi target selezionati Dovrà passare 11-16 Adesso Dexter e Semetru Hori sarà un danno Di 3 di 6 Lightning damage club Negate vuol dire Che tipo Se fasso il save Prendi 0 Vabbè Negate Negate Vabbè Vabbè Esti dell'iniziativa Fulmini anche qua Si Ti ripeto Ti ricordi Ma No Capito Paire Questa E' anche Fulmini Su Lightning Sparking bolt Ehi, Gatto, dammi intanto che sto alzo così non metto un nemico che ti neca. Guarda, 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 guarda te mostre lighting là. Lighting shot, sparking balls, powerhouse lighting balls. Benissimo, fantastico. L'ho proprio visto. È il cama. Va bene, eh, ok. Domanda. Iva, è il tuo tuo. Questa zona, c'è qualcosa che posso usare come nascondiglio? Qualche sporgenza strana. Eh, sì, tutte le cose, tutti gli oggettini che vedi, sì. O semplicemente potresti confonderti anche tipo... Dato che sono tutta nera. Dietro la gente, no? Potresti anche sfruttare magari tipo la vista periferica del nemico, cercare di nasconderli. Vado... Tutto dipende dallo stealth, tutto dipende dal tuo stealth check. Qui, che dovrebbe essere, yes. Come, cunning action, faccio, steltino. Prego. It's time. Ed è sufficiente. Ok. Prego. Quindi, aspetta, ricordatemi un attimo come funziona. Tiro con vantaggio? Tiro con vantaggio. Tiro con vantaggio. E quando hai sneak, metti sneak. Ok. E poi, se hai tirato il coso, devi aggiungere l'1 di 6 della... E poi esatto, devi aggiungere... Sì. Device. Vado big bonk o vado bonk normale? Big bonk. No, big bonk è critico. Aspetta. No, 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 nel senso... No, big bonk sarebbe... Ah! Big damage, volentieri. Con quanto... Con quanto l'ho hittato io, quindi. C'ho vantaggio... Non so. L'ha hittato correlativamente è poco. Cosa era? Quanto anni ho modificato? Alberto non ha scritto la C. Boh. L'ha hittato un 17, diabbo. Un 17 è hittato. Un 17 è hittato. Vabbè, sentite. YOLO. Boom, boom. Oh. Un bel colpo è andato. Bonk. Una freccia partirà... Un tower. ...dal punto cieco di Morgan. E gli farà un macello di danno. Lo colpirai del pezzo. Quanto danno è? 41. Un sacco. 41 di damage. Bene, la mia parte l'ho fatta. Mi voglio un bel chunk di vita. Alla prossima mamma. Alla prossima mamma. Bye bye. Fatto. Darko. Sì, è il mio turno. Prima cosa. Bonus action. Acqua respite. Sì. 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 Adesso io sono ancora... È scaduto il power? No. Il power? Ce l'ho. Ce l'ho. È il momento. Sì. Fireball. Il Tenebris. È dalle tue mani una palla infuocata. Inizierà a crearsi al centro un nucleo nero di energia del Tenebris. Scaglierai contro Morgan. La mia fireball. Vabbè, poi c'è solo uno, immagino. Sì. C'è solo uno. Un 8 di 6. Un 8 di 6. Lo sono avuto fuori. La... Quanto ha? L'ha fallito. L'ha fallito. Rollami la... Fammi cliccare. Ok, se l'accio. Sì. Ok, ripare un altro deck save. Beh, questo è passato. 4 di 4 devo fare? DC... Sì, 4 di 4. Un altro deck save. E rollami un 4 di 4. E lo fallisce anche questo. Yeee! Oh, cazzo. Prenderà 39 di damage. Ma 8 sono bleeding damage. E ogni turno, ogni suo inizio turno, inizierà a blizzare. E a morire lentamente, perché non c'è una cura. Lui ha due iniziative, però. 39. Bu. Cazzo, ragazzi, lo stiamo abbassando. Più o meno, sì. Allora, bonus action fatta, azione fatta. Direi che vado di Marshall check. E... La. La. Marta check. Come è successo? Cosa già volete sapere? A questo punto... Un po'. Un altro, un'altra abilità, un fuori tipo la C. C serve a niente, tanto se spari, spari. Va bene. Fai... Bo, lighting shot anche quella non... Non lo sappiamo. Lightning shot. E poi mi sprenderei, eh. Non starei là a fare... Grumo. Beh, sì, tanto è inutile stare lì. Diciamo... Lightning shot. Sì, va bene. Lightning shot. Attenzionato. L'abilità più... Bruppe più... Spaventoso per... Per Bell. No, è spaventoso davvero, eh. Lo sto scherzando, eh. Ora, ora me la mosto, quindi... One shot Bell a Twill. Ting. Merda. È lightning damage. Sì, è lightning damage. È la morte. Ma quindi è milì questa cosa. Dash action. Sì. E... Ma deve fare la mia mente. Praticamente... Inizierai a... A fare una... Cioè... Se usa la dash action e usa appunto il requisito che c'è scritto là... Con due dita... Tipo quel PG... Quel PG di League of Legends... Si spara un... Lightning... Un brazzo di lightning. A mo' di pistola. A mo' di pistola, sì. Beh, oddio. Secondo te lo va a svantaggio in quell'attacco. Se lo fai con di te. D'acqua, se lo vuoi fare. Eh, non mi penso che mi sia rimasto un lato. È usato la tua azione. È buon sacso. Quindi... Eh... Sì, dove... Ah, sì? Beh, poi c'è un movimento. Sì, c'è un movimento. Però lui è un arciere. Quindi... O gli vado attaccato al culo. Mmm... Che dite? Non lo so. Poi ho bisogno di ci infetta. Passo. Sì, è un hack. Marshall. Successo. Cosa vuoi identificare? Eh, beh, è rimasto poco. Vediamo... Metto segne che indestrezza più nove. Vediamo. Ho dato il coso, fallo tu. Ah, mi hai dato il coso. Eh, non l'ho sentito. Evasi, vi fotte. Evasi, vi fotte. Te l'avrò si pesato prima. E fa questo. Ehm... Non ho applicato un effetto. Ho appena detto adesso. Lol. Beh. Dov'è essere spostato di 5 feet. Ta. Capisco. Ah, ricorda che hai una... Ano tu le spada adesso. Tu hai 35 feet di movement? Dimmi di sì. Sì. Ah, perfetto. Eh... It's time to attack. Musa tutto. Quello unito è sicuro. È unito. Ah, che poi è vero, io riccio. Ah. Gf, Gf Brock, puoi regolare se vuoi. Ehm... 8, cos'è? Ehm... Eh, devi ricliccare la macro, praticamente. Ah, mi riclicca il danno. Uh, oddio. Non direi che andava bene. Direi che è buono. Vincchia. Povero. Il tuo barraggio di colpi, della tua arma. Il lupino la stanza. Uh, che poi invece è... Missa. Ehm... Aspetta, fermi tutti. Quel doppio attacco è perché ha vantaggio? No, no, ha extra attacco. Ok, ok. Dissi se vuoi usare... Coso? Action sword. Action sword, eh. Come verrebbe. Tanto poi... Lo recupero, no? Ha short ass, quindi sì. Lo recupero in fight. Eh, allora lo recupero. It's time. E devo le tirare tutto, giusto? L'attacco, quindi due attacchi. Vai, c'è un Missa. Questo è un Hit. Buono, buono, buono. Vai. Ah, la seconda po' Jackson non funziona, non ce l'hai, non tale da. La bonus non puoi rifarla, effetto. Esatto. Ehm, a posto. Hai altro? No, posso. Ah, riman. Il nemico è da una faiata. Ah, c'è uno. Prenditi, c'è uno. C'è uno. C'è uno. C'è uno. No, c'è uno. Lui, pianifica. Guardate cosa pianifica. Axon uno. Marta, cosa è successo? Cosa vuoi identificare? Il tempo scorre. Io se ti batto a identificare. Se io posso suggerire qualcosa, penserei agli HP rimanenti. Eh, vai. HP. Rimanenti? HP rimanenti. Sì, 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 HP rimanenti. HP rimanenti. 142. Possiamo shootarlo? Eh, credo di no. Il fire non gli fa niente. Il mio li fa male. Tu non hai solo fai damage, vero? Sì. Ax. Ax, con bonus Axon, gratis. Dato che ce l'hai ancora da prima, in teoria, no? È vero, tu hai un botto, tipo un dottore. Allora, su, è podcastato, quindi easy. Oh, cazzo, questa cosa è OP, non dovrai spendere nemmeno lo spesso. Esatto, è quello. Oh, me. Vai. La tua scopigia dello scorpione. La sua scopigia dello scorpione. Allora, marked, ex. Prego. Eh, ex seri. Comunque. A te la scelta. Ma non per cazzo anche i saving, oppure sono gli ability check? No, no, assolutamente lo dai check. Eh, allora, boh, sì. Fai? Fai 13. Uno vale l'altro, fa l'altro, decidi. O atletico, bene. Cosa vuoi? Atletico, so. Atletico, vabbè, strength. Dexter, vabbè, atletico. Ah, no, atletico. Atletico, ha detto. Atletico, strength. Sì, strength. Vai. Bonk. Ed è un hit. È bonk di nuovo. Però, fammi vedere un attimo. Il quadro, la vulnerability, necrotic, damage, mutis, necrotic. No. Niente, solo 9 danni. Vabbè, lo puoi sparare di nuovo. Devi tirarlo di nuovo. È doppio, l'antich blast. Vai. 11 damage. 11 damage. Post damage. Quindi, Lex, non sto facendo un cazzo. Dimmi. No. Questo figlio di toi ha fatto lo stesso danno di Clio. Beh. Sì, come le altre iniziative, però. Yes, Ariman. Oddio, no, quello di Clio è a single tag. Tutti stanno guardando. Cos'è questa cosa? La mette ora di stesso. Immolation. Vabbè, non è più action e combi, fammi. Ma vabbè, che poi è fire damage, quindi... Infatti. Non conviene. Ah, yes, l'abilità da diavolo. Guarda quelle cose mentre passi, dopo che passavo. Vabbè, scusa. Pass. Sì, passo. Mixi. Oh, boy. Cura il mio amico, ti sembra essere molto resistente. Arcana. Cura. Simplicemente. Guiding of balls. Guiding of balls. Vabbè, l'avete visto prima. Sì, cos'è? È il Magic Missile. Due Magic Missile, davvero sì. Due Magic Missile. Senza nient'altro? Sì, c'è una... Ah, ve l'ho printo. Ok, printo, sì. Non c'è un segreto strano. Come inizio di Vaxon, Morgan, potrà sparare due dardi speciali da Sui Andi Cross, poi si hanno un qualche tipo di emozione che non mancano le colpo. Unidardo fanno uno di quattro, uno radio, un damage, una struttura, se non possono uscire di quel tipo di colore. Ok. Non c'è modo di evitare questo strano. Guiding of balls, quindi, è l'iniziativa della seconda iniziativa, e Sparking balls della prima. Signorini, non vi ho detto di cosa, non vi ho detto di quando li puoi usare. Se volete, ve li dico adesso. Sparking sarà home, homecoming. Sparking home, barrage, l'avete identificato? Sì, mi pare? Sì. No, barrage no. No, ma bene, si è un barrage. La barrage l'avete visto, però, quando l'ho usato. Sì. Nella morte. Nella home. Prego. Non è poco, certo. Mixi, cura. Sei una pozione da dare. Signori, io... Ma che non ti piace lui? Beh, ma c'è una pozione da dare a qualcuno. Se la prende da me, è bella. Eh, perché se mi avvicino, rischio di esplodere. Io posso attirargli un fairy fire e cercare di dargli vantaggio a tutti, ma è improbabile che passi il fairy fire. Il discorso è che non ho danno da nessun'altra parte. Quindi... Perché dici che non passa il fairy fire? Perché ha una dexterity pazzesca, ma qualsiasi altra cosa è inutile, quindi... Come è action, perlomeno. Quindi, ho veramente da una pozione a qualcuno, oppure ritiro un fairy fire e spero per il meglio. Mai risculo. Prego. Ah, ce la faccio qua? C'è la dovrei fare. Ah, mi metto qui? Mettiti bene, mettiti bene, la posizione non sentirò il bob. Eh, lo so. Il lì è letta. Dopodiché devo fare... Cerco una posizione 60 feet e sceglierò questa. Sceglierò qua. E posso fare un cube di 20 feet e quindi farò un cube. Cosa ti vedi? È fairy fire. Ok, che sceglie ha? È dexterity. Dexterity sentro? Sì. E lo passa. Ebbene. Ok, lol. Spendo lo spell slot e dopodiché sparo un colpo di force ballista perché allora va a far culo. Eh, no, c'è... Dove c'è la forza ballista? Sì. 5 damage. Beh, allora, più di più di più di small, scusa, ogni istante a sto punto. Eh, extra damage 6. Ok, 11. Big damage. Eh... Questa cosa è immune al fuoco. Eh... Non preoccuparti! Bell. Eh, tristà, ti sta scorrendo ancora in corpo. Sì. Sto fumando. I tuoi muscoli hanno spasmi dagli shock che ha ricevuto. Penso Healing Spirit. O Auro Vitality. Auro Vitality, questo è di cura di più. Un 2 di 6. Vedi un po' tu? Oppure prendi la mia superior healing potion. Sì, no, anche quella. Ah, è una bonus action? No, no, è una bonus action. Ti sei una super bella. Esatto. Healing Spirit mi pare una bonus, mi pare. Healing Spirit è una bonus. Healing Spirit sì. Allora... Non... Una bonus action è un muoverlo, eh, una bonus action. No, anche... Non ha chiusarlo? Mi sa di no. Scusate. No, tolto. Click, click. Bonus. Anche Cast in Time. Cast in Time bonus, è vero, sì. Era una bonus? Ah, ma io was a druid. Dì, lì, tu... Dì, was a druid, I remember. Dì, I remember. E lo evoco, boh. Fammi venire po' lì, lo scrivo, e lo le feo. Ah, quello di prima? Sì, il tiro po' lì. Una carda stia, quelli tu, i tuoi, ti osserva. Vedi ti, vedi nì, e... VEDI DANA VEI! Dove, dove andiamo, lo è? Ecco qua. Ma te la rimetto su. Aspetta, no, te lo devo snappare e poi lo devo far vedere. Ta. Visible. Dove, ha quello della serie, sì. In teoria dovrebbe essere proprio piccolo, no? Eh, sì, perché... Ah, devi fare small, non qui. Ah, ti faccio time, faccio. Va, così un po' metto sopra gli altri. Sì, sì, sì. Un'aura di 30, cos'è? Lo puoi stare a 60 feet, in teoria, no? Quindi dove lo voglio dire. Sì, sì, ma Laura... Laura è di... Laura è di 3, no. Di... Quante è? Non c'è... Laura? Laura, devi metterlo sopra, devi metterlo. Devi metterlo sopra, questo non è quello dell'aura. Devi camminarci sopra, o... Lo ha scelto quella sottoclasse. No, no, non l'ho scelto. Non ci arrivo mica qua. Lo metto qua. Ah, se vuoi metterlo, vuoi metterlo. Ah, ok, si vai sopra tu. Ah, che capo! Non ci arriva. Ah, eh, perché ti ha sposato le 5 feet. Buster mind, non ho avvocato. Vabbè, la su video, scusa, non ha una... Io ho una di quelle buone, però... Stati amici, mi chiesco. Ah, è una Grater. Sì, a sto punto prendi una Grater da lui. Allora, qui. Ok. Vero. Pronti per essere aiutati dalla Mega Blackwing Bull. Il culo di 6 HP, item interaction. Ok, tutto di culo di 6 HP, come prima cosa, 3 grad. Quindi... Quindi... Ding. Poi? Poi prendo la pozione e la bevo. 4 di 4 più 4. Torita pozione. 4 di 4 più 4. Puri per 18 HP. Ok, di quanto mi sono mostro? Spasme finiscono. Le bruciature si vaniscono. No, non è da 30, ero qua. Di 25. E' dopo. Sì. Ah, no, con moglie... Ah, così ci becca tutte e quattro. Sì, mi siete messi perfettamente nella mia rete. No, questo. Ricordiamoci, più tempo passa, più il boss farà la mossa giusta. Marshall, Marshall, Marshall. Vai, vai, vai. Cazzo di Marshall. Tira. Non c'è un rip. Passo. Niente. Corrodi, Corrodi, ti ha spostato il boss. Marshall, sufficiente. Crossbow shot. Crossbow shot. Vabbè, l'attacco base fa quello e basta. Direto qua. L'attacco. Ehm, reckless. Sì, ne fai proprio 3. Reckless attack. Arrg, vantaggio. Oh, no. Beast, reaction, 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 reaction. La mia reaction. La mia reaction. Balance. Link. Ho linkata. Ho linkato. All'esatto livello, quando l'apertura tegna 30 pit, fallisce un attack roll, c'è dentro mentre aveva vantaggio, oppure, riesce in tali checks, mentre aveva svantaggio. Ti curi per un numero di HP, pare 2 di 10, più wisdom modifier. Ah, cura me allora. E quant'era il più? Ah, tu mi fai pure. Lui, lui, lui. Puoi usare la tua lezione, per curare un tuo alleato a 30 pit. 2 di 10, più 5 roll. Un cuore fia solo. Mi curo io? 2 di 10, più 5. Va bene. Tanto 30 pit lo sceglie belle. Chi vuoi curare? Me stesso. E' arrivato il suo momento, perché accadrà qualcosa. Second phase start. Oh no. No. Che adesso passa le spadone e si shotta tutti. Non ti preoccupare, Alberto, cambia solo il token e aggiungi qualche mossa. Che è la mia mossa? Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Sai, giuro. E' quella che iniziativa. Ci apre solo di più il culo. Tripla iniziativa. E' la music. Perché non avete rullato di story check. L'importante è che ti sia una cosa molto importante di questo personaggio. Adesso, fatemi prendere le nuove track. Che ha un fratello. Che sesso. Quindi, se la notte. Vediamo, perché hai fatto quattro attacca? Vantaggio. E' a Reckless Attac, a vantaggio. E ne ho capito un'introduzione. E poi, tipo, faccio un'introduzione con questa musica. Che, se no, ci metto troppo. Allora, fatemi andare a aprire il dock. Ok. Morgan. Adesso, lo so che non c'è la musica, quindi... Morgan vi sorriderà. E si accederà a un sigaro. E dirà, sarò sincero con voi. C'è stato davvero forti. Non me l'aspettavo. Mi obbligate... A durare il ferro. What? Eh? Oh no, fai lo fai vagando. Cos'è, se hai mostro il pollice in su? Harry Deasy, ho fucking casual. Sììììììì. Non direi che... Fai nella pistola, di merda. Alzate la musica, sì. Questa è un po' bassa. Il freddo. Oh no. Morgan ha un'espressione molto diversa... prima sembra quasi contento si girerà da un lato come per prendere qualcosa all'interno del suo mantello non è che è il fratello del dio dei contratti quello che senti? no non è la musica chi è dal suo lato sinistro potrà vedere cosa sta prendendo un oggetto argentato che vi ricorda una balestra all'inizio avendo la stessa impugnatura ma le sue umilianze finiranno qua perché la sua struttura principale è una lunga palla è una lunga canna di metallo ripentato io la devo fregare disegnati sopra dei fiori vicino all'impugnatura della mano due levitte come per azionare qualche strano meccanismo per lanciare delle munizioni ma non sembrerebbe se c'è nessuno slot per freccio darvi che cosa sarà mai questo oggetto Morgan punterà contro uno di voi e dirà non possiamo iniziare change the game oh no nooo qui si guarda con gli occhi così praticamente che diavolo ha preso? somiglia al mio cannone ma è più piccolo fortuna che era di temi passati e chi ti dice che pia non c'è alle GUN ma cos'è è andato sull'altro pianeta dove ero prima? oddio ma che cazzo ma che cazzo è il mega zoomato in oddio si il momento ok non mi ha preso revolver cazzo non mi rivolverò non ce l'ho è il piloto con una mano destra preso revolver con l'altra c'è ancora la balestra ricordiamoci no si ha gimbo ok se volete possiamo concludere qua oppure battono pochi capi in effetti e anche invecchiato gli è spuntata la barba no vabbè ce l'ha sempre avuta veramente immagine il cappello ce l'ha dietro la schiena l'ha messo tipo per tardi dicevo effettivamente è tardi io andrei avanti si non c'ho problemi vediamo la fine signori voglio quell'arma come la gun top combat music play ma tecni quindi gli inspiration non sono consumabili che non si possono usare eh un momento so ah ok tira fuori il ferro il ferro se faccio hit metal funziona oddio si scalda la pistola questo c'era anche l'opg della club mi esplode la pistola è immune al fire vecchio di dio ed è 40 minuti mi sto piacendo per questa cosa counter completamente la mia vita eh io te l'ho detto Alberto più che mi ascolti sì ma mi pare fatto apposta no io l'ho fatto prima te l'ho detto apposta brb bene perché adesso è arrivato il momento di rivelarvi le sue abilità nascoste reload critical eye oh boh e perfect clean shot oh no dai magari magari non fanno lighting damage shot o ne basta perfetto ah devo rifixare perfetto clean shot ok che cazzo vado qua ah ecco niente ok inizia subito mmm ok ok avete avete genito con cautela di dio coradin si morgan ti guarderà con un occhio come se stessi per prendere la mira e io gli so ridi pollice in su e poi justice disengage ok 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 di qua di qua e poi di qua da qua farà disengage senti quindi a me prenderebbe il vai attacca ok io posso e vediamo no io sono l'unico sono l'unico che può attaccarlo perchè è una fit che me lo permette di fare lo hit e fermi il suo movimento aspetta te che tu hai detto che iniziava da qua il disengage no? no hai detto tira disengage poi va qua e poi va qua ah ok ho detto male tira disengage va qua e poi va qua ok ok comunque uno scatto pulminio si metterla da un lato di corbin vabbè è avversi shot quindi aspetta provare a colpire ovviamente a te ah ricordi di applicare un liceo ehm si ehm guai resistenza 6 e 6 bene l'anello è pog ok ed ora passerà perchè ho usato le sue cose però è un marchio perchè ti ha guardato prima per prendere la mira oh no perfect io ti che l'hai perfect shot no aspetta ce n'è uno ce n'è uno un po' più a mirino c'è un po' di cross tipo dov'è che fammelo trovare cross le stelle che appaiono ahhh 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 ecco lìo ecco lìo vera perfetto perfect clean shot intra l'arma verso di te però è pronto aspetta eccolo questo colpo non può mancare il suo bersaglio prendrai 72 di mezzo ragazzi ciavone la meta però a per fortuna e resistenza ma per quanto volta cosa cosa che prima deve marchiare e poi deve sparare la scuola un attimo per quanto è la metà di 32 36 di te dark o te perciò la botta ma la reggo tranquillo che era del primo per dio non ne prende metà con si è già la metà no no metà della metà non prende metà della meta no perché dovrebbe la metà della metà poi scusa metà è divisa con d'arco e metà perché in regge no no c'è la resistenza ai danni la resistenza è come vantaggio non puoi averlo doppio capisce e quello diceva che di cambiare il target non conviene tenere capito cosa attiva però share the pain e poi passerà vabbè tipo boom c'è ok ok ho fatto un'errore ci ho fatto un'errore ho fatto un'errore ti continui ad attaccare col crossbow oh merda crossbow shot vabbè iii 10 da una testa quando ti prendi? 20, 10 da una testa e ti spongirà di 5 pit significa resisti Darko si resisto con 2 hp ma resisto Corradin non va giù Corradin tanca vale l'arcana di prima o devo ritirarlo? beh devi ritirarlo ok boing sufficienza beh vuole sapere le cose nuove come dicevo prima sono reload critical eye e perfect clean shot quale di cui è identificata qualcuna? non è lo qua no allora no secondo me per la clean shot ok quindi critical eye forse per vedere se si può togliere in qualche modo ah eh non ho capito quale vuoi identificare? critical eye critical eye ve lo tolgo vediamo se si può togliere in qualche modo dobbiamo uscire toglie toglie leader e questo è il marchio adesso no beh io do una cosa buona l'ho aperto l'ho aperto state markers eccolo qua il suo critical eye 1200 feet vabbè la sua previsione è godlike lui era un eroe del passato non si può togliere no dobbiamo uccidere ora è la sua mira non puoi togliere la sua mira 84 hp buttatelo è la sua innate è la sua mira questa quanti hp scusa 2 volte o una sola è due volte sono nascosta sei nascosta sei nascosta molto bene sei nascosta quanti hp dovrebbero essere rimasti visto che voi state facendo lo schemino chi gli ha fatto sti danni gli 8 e 8 sono i miei bleed damage allora arriva ah no quello era il vantaggio colpito fai un bordello di danno quante danno è oh madonna 19 e 14 32 e 36 no 36 un'altra prezza partirà dall'arco di iva tenderà l'aria per poi infilzarsi nella gamba di morgan faccio un debolino questa prezza gli ha danneggiato la sua gamba morgan al fungo adesso faccio un occhiolino in questa direzione generale e poi passo il turno bene si alza e cappello verso di te wink ho fatto sì 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 d'arco io inizio subito veloce con marshall la allora prima chiedo agli altri se mi dicono su berto adesso non so chi sta seguendo sul foglio che non ce l'ho 32 32 hp che dite abbiamo identificato le resistenze quindi si può addormentare secondo voi beh effettivamente hanno già scritto che è immune allo slip è vero non è immune allo slip la sua arma la voglio è che probabilmente sparisce quando lo uccidi o eh slipalo e fottigli l'arma non so che dire ma poi preverete un criticalitazione che farebbe una fracassa di danno quindi sì slipalo allora io visto che posso spostarmi mi sposto aspetta se sei sbagliato 65 tu sei quasi morto sì ma non so se non ho dato quello che ha fatto channel divinity d'acco ha tancato insieme a me è come se fosse stato al mio fianco ho tancato la fin fine cosa vuoi fare d'arco attivano la cena divinity ok quant'è? se sono fitta sì sì dovrei essere messo abbastanza per prendere tutti che aumenta gli hp prendi 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 massimi 3 hp del 2 quanto è un di 8 più il più profice sì eh però la mia uno di 8 più 5 più 3 allora ho sbagliato uno di 8 più 8 sì uno di sì uno di 8 più 8 lol no no vabbè rip tempo hp 8 la 9 mi sa che li hai messi nella roba sbagliata perché a me non sono arrivati hai fatto healing non male hai fatto healing fa what devi fare tempo a capire eh io ho fatto tempo ho messo su tempo aspetta l'ho messo l'ho messo l'ho messo prima volta l'ho messo l'hai fatto giusto ma no vabbè il pato di voi togliete il 9 hp e mettetevi il coso io lo faccio per dark sì io non mi ricordo dovrei andare su demy no temel 9 9 tempi null non metto l'ho messo 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 lo faccio io per te no ho fatto l'ho messo hai già tolto l'hp ho messo l'ho 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 messo tempo a capire bisogna mettere tempo a tu ripullo ok 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 io sto posto quindi non è la full vita eh quello mio controllo 6 tempo tempo 17 7 posto sì vai l'unica basta bene perché è la prima ok no lei ha 17 tempo a capire bene tempo prima tolgo healing 9 temp 9 ok ok posso quindi dar quello vuoi si pare non posso ho fatto questa niente bonus action spiritual weapon pop però spiritual weapon eh sì adesso eh 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 sì non l'ho messa eh sì tanto eh ti devo condirla se volessi usare l'effetto eh non posso usarla no non posso usarlo oddio perché non ho cambiato forma eh allora rip niente eh allora attacca e basta io sono in concentration in effetti vai eh è numero 20 più 8 1 di 8 più 5 di 20 più 8 più di 20 più 8 di 20 più 8 di 20 più 8 miss minchia va bene passo sì l'energia del bilanciamento di Darko ti dà vantaggio tutti i tuoi diventi che farai in questo turno qualsiasi diventi oddio devo provare a fare una cosa oddio le fusano le risarie di Darko lol eh ma le puoi specifica quale arma ehm tra uno prego c'era due prima di evitare prima sì quindi prima di evitare quindi rolli gli attacchi oh no a vantaggio ed è un'ista questo è il primo colpo perché ha vantaggio oh fai 12 danno vuoi tirarlo qua il il disarmine attack eh sì ehm aumenta il danno fai dire disarmine attack sì aumenta il danno quindi prenderà 3 damage con una mossa di un puro combattente lo danneggi la sua arma cadrà a terra qua la sua immagino pistola no? in realtà è targettato eh a gun se se ne prendessi potrei utilizzarla sì se conosce sai come si fa come si usa beh non l'ho mai usata in realtà no non sai nemmeno come funziona non hai idea proprio di come funzioni perché ha preso altri tre danni dopo disarmine disarmine attacco aumenta il danno di tre del roll che attira quindi dodici più tre in poche parole beh la raccolgo doll doll ce l'hai mano? mi asca da grab mia non ti va attaccare molto disarmare hai vantaggio gvf gvf retira è sempre meglio di otto 10 di damage piano piano stai slasciando sempre di più è extra attack quasi morto oddio oddio boom è roll gvf gvf lo puoi usare di nuovo vero gvf è un critico quindi tipo roll amie come si può fare aspetta non fa nulla ok harmony glaive uno di me non è solo uno devi fare 10 più roll no stavo sbagliando ma è tanto un buon c'è un 7 quindi ah fa vedere 1 e 3 devi rollare devi rollare entrambi per rollare entrambi in teoria no e tutti no il 3 no il 3 ah no si capito perché erano due dadi quelli il 3 sono due dadi ci sono i due dadi 1 e 3 però non ha sentito che ci si trattore ma non può arrivare un'arma con due dadi no staspe no si è peccato ah che è un critico esatto ok quindi può regolare solo il 3 rinola 1 di 10 no si rinola 1 di 10 1 di 10 più 10 3 di 7 sarebbe ecco ok quant'è il totale diabo 20 ci ho fatto il totale ok intanto è over damage quindi il tuo critico prendi la tua spada scusa hai una spada o la gleam adesso? c'è la gleam glive prendi la tua gleam con due mani prendi di tutta la tua forza e fai un crescent slash dal basso verso l'alto e lo tagli in due da parte a parte e il silenzio ne sarà di questo encounter perché è finito allora a te morga dove è la sua? appena morirà appena morirà appena morirà no non dirlo non può quella vita non può essere usata in questa locazione non sai il motivo perché hai fallito il perception hai fatto uno prima quindi non sai nemmeno il perché morgan come è successo il tavolo inizierà a affondarsi nel terreno e poi da tipo una specie di porta anch'essa eterea aspetta un attimo ma la pistola ce l'ho ancora è quello che voglio sapere aspetta un attimo aspetta un attimo sì oddio non ho fatto il vita sì da una porta a terra di nuovo lui come se fosse tornato in vita o non fosse mai morto in generale e il suo side donato colossal tipo no colossal guarda gargantuan più colossal è faccione aprire la mano come per come se ci fosse la sua arma la sua pistola nella sua mano ancora ma non la vedete ma piano piano inizierà a materializzarsi e la sua arma torna nella sua mano oh no maledetto aiuta avete combattuto bene vi meritate di proseguire ma ti guarda lo fisso perché c'è quella cosa che mi interessa ti guarderà un attimo è tutta la tensione stai guardando la mia arma sì vuoi sapere cos'è vero? questa è un'arma da fuoco ed è il futuro vorreste il mio gioiellino vero? sì i giochi stanno brillando ma è impossibile no perché è mia è mia abbiamo vinto potresti termela come premio fammi un persuasion check oddio è il momento di holla e venti c'ho c'ho un'inspiration posso usarlo? è il prima tira vediamo se lo passi però non è quello che ti aspetti che mi dà la palestra ricordati bene le mie parole uomo dei capelli strani lo dirò solo una volta è vero sono proprio strani e annuserà tipo la sua pistola tipo il dorado e poi inizierà a incamminarsi cosa ha detto? il dorado il deodorante cos'è il deodorante? devi andare al deodorante è il dorado ma che ti serve un deodorante? credo che avrei potuto avrei potuto studiarla con la pistola lì no 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 sicuramente ha detto il deodorante è il dorado è un deodorante i muscoli di cora di sismotion c'è un check per capire se è un posto o qualcosa tipo un history vuoi fare un tour io fai un perception sec tu non sai di niente tutti gli altri fatemi un perception sec ok posso fare un atto venti please? oddio quasi un atto di 19 tutti quelli che hanno fatto 15 in su sento una presenza che compare tipo all'improvviso come se fosse dall'ombra compare una figura proprio dritto iva oh no lo vedo oh cazzo oh un altro uomo tutti quelli attenzione tutti quelli che hanno fatto 15 in su lo vedono tutti quelli che l'hanno fatto non lo vedono io sono ancora ricordo di qua non lo vedo non lo vedo non lo vedi che guardi? no non lo vedo attenzione se ti può ti viene detto che c'è ok allora tutti quelli che ti postavano in quella direzione come se sanno che ci fosse qualcosa lì vi concentrerete come per concentrarvi per identificare che c'è qualcosa lì e lo vedrete vedrete questo mantello che inizia a morfare e a mascherare la sua presenza in un modo tale come se fosse questo mantello un item leggendario ok è difficilissimo mantenere la concentrazione per riuscire a tenere la mente e gli occhi che lo fissate in modo tale da vedere la sua figura e la sua faccia riuscite a vedere la mia presenza un po' non dovemmo chi sei? farà tipo un dash in avanti e vi passerà attraverso scomparendo e ricomparendo dall'altra parte ci accorgiamo sì vi accorgete che vi è comparso dietro però è scomparso tipo era davanti e vi è scomparso in questa specie di shadow questa nebbia nera appunto di questo mantello e poi ve lo siete ritrovati dietro no? l'emestero è molto veloce io sono il vostro prossimo encounter encounter che modo strano di parlare iva dimmi perchè stiamo combattendo questi tizi non li lo so passano tutti i strani e poi tipo mentre voi parate tutti voi si shrinkrà ed è qui che termino la sessione madonna oh oh oddio quasi uno il vostro prossimo encounter no non è un termine tipo è voluto encounter come termine diciamo che proviene da un luogo che potrebbe essere familiare per Sionac ok ma è molto più antico è diciamo un termine che era per giusto per dire volevo mettere non ho fatto bene sicuramente non si aveva quei termini mettere è un termine moroa di moroa però antico nemmeno cioè Sionac è un termine tipo antico è qualcosa che è fuori luogo capito? come se non fosse più utilizzato come se fosse qualcosa di strano però Sionac capisci che cosa vuol dire più o meno cosa intendeva Tekken prima di chiudere la sessione concedimi una cosa da chiedergli eh ti risponderò sì però va perché basta ok dimmi cosa vuol dire chiedergli se sa cosa vuol dire il dorado non lo sa ok boom la prima persona che incontra è qui in questo posto è con lui è un'altra ma strategia tutti quelli che incontri glielo chiedi cos'è il dorado? ah sì se mi personaggio esce da posso dirgli d'arco che è sbloccato tipo un requisito per iniziare tra virgolette una quest secondaria che ti porterà ad avere la tua arma da fuoco un giorno sì eh comunque ci hai preso un po' con quei 51 minuti eh visto più o meno adesso parte tipo qualche tipo fail di 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 come si chiama di di production value no? tipo la cosa dell'iniziativa roba lano è stato un po' lento e poi danni in questo momento di cosa era la previsione del boss la previsione del time dell'encounter sì ok che percentuale avevi dato questo di riuscita per noi questo era il più facile eh eh sì era ovvio eh prima beh perdito ho capito l'ho detto nessuno però è ah lol il track cos'è ah gun venta cari da finca giusto lol justice rock gordin smetto di registrare ah giusto salutiamo la registrazione ciao 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 comunque eravamo anche in live di questo primo encadre